Plutarco, vita di Cesare La versione che Cesare nutriva nei riguardi di Silla era dovuta ai suoi rapporti di parentela con Mario, in quanto Giulia, sorella del padre di Cesare, sposò il vecchio Mario, da cui ebbe il giovane Mario. Questi era quindi cugino di Cesare. Inoltre Silla, nella ridda di stragi e di preoccupazioni che contrassegnarono la sua attività di governo, trascurò il giovane. Egli se ne ebbe a male e si presentò al popolo come candidato ad un ufficio sacerdotale, benché fosse ancora proprio un adolescente. Silla, opponendosi occultamente alla sua nomina, fece in modo che non riuscisse eletto. Pensò addirittura di ucciderlo. Alcuni dei suoi fidi gli dissero che non c'era ragione di ammazzare un ragazzo di quell'età, ma egli rispose che erano ben poco accorti se non vedevano in quel ragazzo molti mari. La frase fu riportata a Cesare, che scomparve per un certo tempo da Roma, rifugiandosi in Sabina e cambiando continuamente dimora. Una notte, però, mentre malato i servi lo trasferivano da una casa in un'altra, si imbatté in alcuni soldati di Silla, che stavano rastrellando la regione ed arrestavano coloro che vi si erano nascosti. Ma con due talenti, convince l'ufficiale che li comandava, Cornelio, a lasciarlo andare. E sceso immediatamente alla costa, fece vela per la Bitinia, dove regnava Nicomede. Rimase presso di lui non molto tempo. Ripartì tosto e, a largo dell'isola di Farmacussa, fu catturato dai pirati, i quali già allora controllavano il mare con grandi flotte e un numero sterminato di navi. Tanto per incominciare, allorché i pirati gli chiesero venti talenti per lasciarlo libero, scoppiò a ridere. Disse che non sapevano chi avevano preso, e promise spontaneamente di darne loro cinquanta. Poi spedì i servi in diverse città, affinché si procurassero la somma necessaria. E rimasto solo, con un amico e due camerieri, in mezzo a quei cilici, che erano gli uomini più sanguinari del mondo, li trattò con tale disdegno che, quando aveva voglia di dormire, mandava dare ordine che facessero silenzio. Così passò trentotto giorni e sembrava che fosse circondato da una guardia del corpo, non dai carcerieri. Prendeva parte con grande tranquillità ai loro divertimenti e ai loro esercizi ginnici. Scrisse poesie e alcuni discorsi, poi si servì di loro come uditorio per recitarli. E se qualcuno mostrava di non ammirarli troppo, lo chiamava senz'altro ignorante e barbaro. Più volte li minacciò, per ridere di impiccarli. I perati a loro volta si divertivano e attribuivano la sfrontatezza di Cesare all'incoscienza della giovane età. Ma appena giunse da Mileto il denaro del riscatto e, versata la somma, fu rilasciato, equipaggiò alcune imbarcazioni e partì da Mileto alla ricerca dei ladroni. Li sorprese mentre erano alla fonda nelle vicinanze dell'isola e li fece prigionieri quasi tutti. Li spogliò dei tesori che avevano, lasciò gli uomini in custodia nella prigione di Pergamo e si recò dal governatore d'Asia, Giugno, a cui spettava, quale pretore, di punire i prigionieri. Giugno, che aveva adocchiato i tesori dei pirati, non esigui in verità, disse a Cesare che si sarebbe interessato dei prigionieri a suo agio. Cesare lo lasciò alle sue occupazioni e tornò in fretta a Pergamo, tirò fuori i predoni dal carcere e li impalò tutti quanti, come aveva predetto loro tante volte nell'isola, ed essi credevano che scherzasse. Frattanto la potenza di Silla andava lentamente illanguidendo e i suoi amici di Roma insistevano perché tornasse, perché tornasse. Cesare fece vela per Rodi, ovvero frequentò la scuola di Apollonio, figlio di Molone. Apollonio ebbe come allievo anche Cicerone, poiché godeva fama di retore illustre ed era stimato uomo di carattere dolce. Quanto a Cesare si dice che possedesse ottime qualità naturali per l'oratorio civile e coltivò con vivissima ambizione le sue doti, tanto da raggiungere indiscutibilmente il secondo posto fra gli oratori romani. Al primo rinunciò, votando tutti i suoi sforzi ad ottenere piuttosto il primato nella potenza politica e militare. Non poté quindi raggiungere, a causa delle campagne militari e delle operazioni politiche attraverso le quali ottenne il dominio di Roma, quell'abilità di oratore per cui la natura lo aveva dotato. Egli stesso, rispondendo più tardi al catone di Cicerone, chiede che non si paragoni l'eloquenza di un soldato quale egli è con l'abilità di un oratore, che, oltre a possedere una buona disposizione naturale, aveva avuto molto tempo da dedicare alla sua arte. Rientrato a Roma, trasse in giudizio Dolabella per le malversazioni che aveva compiuto durante il governo di una provincia, e molte città elleniche gli fornirono le necessarie testimonianze. Dolabella fu assolto. Tuttavia, Cesare ricambiò l'appoggio volenteroso che Lellade gli aveva dato, patrocinando la sua causa quando accusò Publio Antonio di corruzione davanti al pretore di Macedonia, Marco Lucullo. La sua requisitoria fu così efficace che Antonio si appellò ai tribuni del popolo col pretesto che si trovava sfavorito, dovendosi difendersi nell'Ellade contro Elleni. A Roma il prestigio di Cesare rifulse, poiché prese la parola per difendere molta gente, e molta simpatia si acquistò presto i ceti popolari, salutando e incontrando chiunque con grande affabilità. Era più cortese di quanto non si suole essere alla sua età, ma contribuiva ad accrescere a poco a poco la sua potenza politica, anche la magnificenza dei suoi pranzi, dei conviti e in genere del suo tenore di vita. Sulle prime, i suoi avversari non dubitarono che ben presto, appena cessato di spendere, anche il suo prestigio sarebbe svanito, e lasciarono che fiorisse tra le masse popolari. Soltanto quando si ingrandì al punto che era ormai difficile rovesciarlo, ed era avviato dritto dritto a sovvertire tutti gli ordinamenti dello Stato, allora capirono, ma tardi, che ogni principio in politica non deve essere giudicato trascurabile. La perseveranza lo ingrandisce rapidamente, se viene sottovalutato e nessuno lo ostacola. Il primo che mostrò di vedere addentro nella politica di Cesare, e lo temette, come chi mentre il mare sorride già prevede la tempesta, e ne indovinò nascosta dietro alla affabilità e alla giovialità del suo carattere, la destrezza, fu Cicerone. L'oratore ebbe a dire che in tutte le iniziative e le manovre politiche di Cesare egli scorgeva l'intento di crearsi una tirannide. Eppure, soggiungeva, quando ammiro la sua chioma così squisitamente pettinata e lo vedo grattarsi la testa con un dito solo, non mi pare più possibile che un uomo si fatto si sia proposto un'azione tanto malvagia quale quella di rovesciare la Costituzione dello Stato romano. Ciò accadde però posteriormente all'epoca cui abbiamo lasciato il racconto. Una prima dimostrazione della simpatia che il popolo nutriva verso di lui, Cesare lebbe quando sceso in lizza contro Gaio Popilio per la nomina tribuno militare fu eletto. Una seconda, più evidente ancora, allorché morì Giulia, la moglie di Mario, egli in qualità di nipote, ne tesse splendidamente l'elogio nel foro e durante il funerale ardì esporre alcune statue di Mario. Fu quella la prima volta da quando Silla era assalito al potere che se ne rivide l'immagine, poiché sia lui sia i suoi seguaci erano stati dichiarati nemici pubblici. Tanta audacia suscitò alte proteste contro Cesare. Ma il popolo reagì vivacemente e lo accolse con applausi e gli fu grato di avere riportato per così dire dall'Ade in città gli onori di Mario dopo molto tempo. La consuetudine di recitare l'elogio delle donne anziane durante i funerali era molto antica a Roma. Non si usava invece tenerlo per le giovani. E Cesare fu il primo a tessere le lodi di sua moglie quando morì. Anche questo atto gli procurò molto favore e gli cattivò l'effetto delle masse cosicché lo amarono come uomo dal carattere mite e affettuoso. Dopo le esegue della moglie si recò in Iberia quale questore insieme ad uno dei pretori vetere che onorò sempre. Quando a sua volta divenne pretore assunse come questore suo figlio. Di ritorno dalla missione in Iberia sposò una terza moglie Pompea. Aveva già avuto una figlia della prima moglie Cornelia la quale sposò più tardi Pompeo il Grande. Intanto spendeva denari senza ritegno. Si credeva mirasse ad ottenere a costo di grandi spese una rinomanza effimera e breve tra il popolo mentre in realtà stava acquistando a basso costo grandissime cose. Si dice che prima di aver ottenuto una qualsiasi carica di governo si fosse indebitato per 1300 talenti incaricato della manutenzione della via Appia profuse in questo ufficio una parte ingente della propria sostanza. Eletto edile offrì al popolo uno spettacolo cui presero parte 320 coppie di gladiatori ed allestì a prezzo di grandi spese rappresentazioni di ogni genere parate banchetti pubblici con cui sommerse il ricordo delle ambiziose elargizioni dei suoi predecessori così dispose il popolo a simpatia nei suoi riguardi. Ogni romano cercava ormai di offrirgli nuove cariche per ripagarlo dei suoi benefici. Esistevano allora in Roma due fazioni quella di Silla molto potente e quella di Mario che per essere stata intimidita e dispersa dalle persecuzioni di Silla era depressa e debole. Cesare volle rinvigorire e attrarre a sé questo secondo partito a tale scopo nel momento in cui la sua popolarità di Edile raggiunse la punta più alta fece fare di nascosto alcune immagini di Mario e della vittoria raffigurata in atto di portare un trofeo poi le fece trasportare di notte e collocare sul Campidoglio coloro che allo spuntare del giorno le videro tutte scintillanti d'oro ed eseguite con arte eccellente e c'erano anche delle scritte che indicavano come rappresentassero le vittorie di Mario sui cimbri furono colpiti dall'audacia di colui che ve le aveva poste era evidente chi fosse la voce fece ben presto il giro della città e tutti gli uomini di Roma si raccolsero davanti alle statue qualcuno gridò che Cesare mirava a costituirsi una tirannide risuscitando gli onori che erano stati sotterrati da leggi e decreti e questo non era che un assaggio per vedere se il popolo già da lui blandito in precedenza fosse stato addomesticato dalle sue spese ambiziose gli permettesse di divertirsi con tale novità i mariani però si incoraggiarono l'un l'altro e si presentarono inaspettatamente in numero tale da sorprendere tutti riempirono il campidoglio di applausi molti al vedere il volto di Mario piansero di gioia e lo darono Cesare come l'unico uomo degno di essere imparentato con un generale così grande la sua potenza quindi crebbe ma nella seduta che il senato dedicò a questi fatti Catullo Lutazio uno dei romani più stimati del tempo si alzò e nell'accusare Cesare pronunciò la frase che divenne poi celebre tu non attenti più al governo attraverso dei cunicoli ma con macchine da guerra ormai Cesare seppe scagionarsi da questa accusa e riuscì a persuadere il senato della sua buona fede coloro che lo ammiravano ne furono ancora più incoraggiati e lo esortarono a non ridurre le sue aspirazioni per paura o rispetto di nessuno il popolo lo avrebbe visto volentieri superare i suoi avversari e diventare il primo cittadino di Roma in quel medesimo tempo moriva il sommo sacerdote Metello la carica di sommo sacerdote era molto ambita e miravano ad ottenerla due personaggi dei più illustri e potenti che ci fossero allora in senato Isaurico e Catullo ma non cedette Cesare innanzi ad essi e si presentò al popolo annunciando la propria candidatura in opposizione alla loro il favore degli elettori sembrava ugualmente diviso fra i tre Catullo il quale tanto più temeva l'incertezza dell'esito quanto più grande era la reputazione di cui godeva mandò a Cesare alcuni amici per convincerlo a ritirarsi dalla lizza in cambio di una grossa somma di denaro Cesare rispose che era disposto a indebitarsi per una somma di denaro più grossa di quella che gli offriva pur di condurre la lotta fino in fondo quando venne il giorno delle elezioni la madre accompagnò Cesare alla porta di casa in lacrime ma egli la baciò e disse o madre oggi vedrai tuo figlio pontefice massimo oppure bandito dalla patria la lotta fu serrata durante le votazioni ma alla fine Cesare ebbe la meglio ciò fece temere al senato e alla aristocrazia che conducesse il popolo ad ogni eccesso Pisono e Catulo rimproverarono a Cicerone di avere risparmiato Cesare in occasione della congiura di Catilina quando offrì la presa ai suoi avversari Catilina si era proposto non solo di cambiare la costituzione dello Stato ma altresì di rovinare l'impero e di sconvolgere ogni cosa a Roma personalmente fuggì dalla città schiacciato sotto il peso di prove ben piccole in confronto a quelle che erano le sue mire ultime e scoperte più tardi ma lasciò a Roma come i suoi successori alla testa della congiura Lentulo e Cetego ora se Cesare abbia dato a loro di nascosto incoraggiamenti ed aiuti concreti non lo si è mai saputo ma allorché essi furono smascherati in Senato con prove schiaccianti e Cicerone che era console in quel periodo domandò a ciascuno dei senatori il proprio parere sulla punizione che bisognava infliggere ai prigionieri tutti si dichiararono per la punizione capitale finché toccò a Cesare di parlare Cesare si alzò e sviluppò un discorso ben meditato disse che non si accordava con le tradizioni e le leggi di Roma mandare a morte senza processo alcuni personaggi illustri sia per la loro dignità personale sia per la stirpe cui appartenevano a meno di trovarsi in un caso di estrema necessità se invece fossero stati incarcerati e detenuti in qualche città italiana che Cicerone stesso avrebbe scelto finché Catelina fosse stato sconfitto il senato avrebbe poi potuto decidere la sorte di ognuno in pace ed a suo agio la proposta sembrò a tutti umana e il discorso con cui venne esposta fu così poderoso che non solo quanti si alzarono a parlare dopo di lui vi aderirono ma anche molti di coloro che avevano parlato prima di Cesare ritirarono i pareri che avevano espresso e accettarono in cambio il suo finché venne il turno di Catone e di Catulo essi si opposero vigorosamente alla proposta di Cesare Catone pronunciando un discorso vigoroso contribuì a suscitare e a far cadere il sospetto su di lui gli accusati furono consegnati al carnefice per essere uccisi quando Cesare uscì dal senato molti giovani che durante quei giorni facevano la guardia intorno a Cicerone corsero in massa su di lui e lo minacciarono con le spade sguainate ma si racconta Curione lo avvolse con la propria toga e lo sottrasse al loro furore mentre Cicerone quando i giovincelli volsero lo sguardo verso di lui scosse il capo o ebbe paura del popolo o stimò assolutamente ingiustificato e illegale l'assassino di Cesare ciò che non capisco è come mai Cicerone se questo episodio è vero non l'abbia riferito nel libro che scrisse intorno al suo consolato infatti più tardi fu accusato di essersi lasciato sfuggire in quel momento la migliore occasione di sopprimere Cesare e di aver avuto paura del popolo che si stringeva intorno a Cesare con straordinario affetto effettivamente pochi giorni dopo Cesare si presentò in Senato e si scaggionò dai delitti di cui era sospettato ma incontrò un'opposizione violenta e tumultuosa da parte dei colleghi e la seduta si pronungò al di là del consueto il popolo si radunò allora intorno al palazzo lo circondò gridando chiese di vedere il suo capo e reclamò che fosse lasciato uscire anche Catone ebbe paura temette soprattutto una rivolta del proletariato l'esca da cui prendeva fuoco tutta la massa che riponeva ogni speranza in Cesare e convince il Senato a far distribuire al popolo una razione di grano ogni mese con un aggravio di spesa per il bilancio dello Stato pari a 7 milioni e 500 mila dracme questo provvedimento sedò però in modo evidente la grande paura che assillava Roma quei giorni e dissipò in gran parte la potenza di Cesare disperdendola in un momento particolarmente opportuno quando stava per assumere la carica di pretore e diveniva più temibile che mai per l'autorità che avrebbe acquistato non si ebbe tuttavia nessun disordine durante la pretura di Cesare un increscioso incidente capitò invece a casa sua viveva allora un giovane patrizio brillante per il suo ricco patrimonio e la sua eloquenza per arroganza ed audacia secondo a nessuno di coloro che avevano nomea di ribaldi Publio Clodio costui era innamorato di Pompea la moglie di Cesare ed essa non ne era malcontenta ma l'appartamento delle donne in casa di Cesare era strettamente sorvegliato la madre di Cesare Aurelia donna veduta stava sempre intorno alla giovane sposa e rendeva difficile e rischioso qualsiasi incontro fra i due innamorati i romani hanno però una dea che chiamano buona corrispondente alla ginecea degli elleni i frigi che dicono la dea originaria del loro paese ne fanno la madre del re Mida i romani dicono che è una ninfa delle driadi e che sposò fauno per gli elleni essa è una madre di Dionisio che non si può nominare perciò durante la sua festa le donne erigono certi padiglioni coperti di pampini e pongono accanto al trono della dea un serpente sacro come vuole il rito non è permesso a nessun uomo di intervenire alla cerimonia e neppure di rimanere nella casa dove essa si svolge quanto alle donne mentre sono sole si dice che compiono molti riti assai simili a quegli orfici quando arriva il tempo della festa il console ovvero il pretore sloggia della sua casa e con lui ogni altro maschio ne prende possesso la moglie e la adoba opportunatamente i riti più importanti si svolgono poi di notte queste veglie sono accompagnate da divertimenti e vi si fa molta musica allora toccò a Pompea di celebrare la festa e Clodio che era ancora in verbe pensava quindi di passare inosservato si avviò verso la casa di Cesare vestito con gli abiti di un arpista e portando gli strumenti del mestiere sembrava davvero all'aspetto esterno una giovane donna giunto alla porta la trovò aperta ed entrò tranquillamente con la connivenza di una servetta Costei si precipitò subito ad avvertire Pompea del suo arrivo ma l'attesa si prolungò e Clodio non ebbe la pazienza di attendere dove l'aveva lasciato mentre vagabondava per quella grande casa cercando di evitare gli anditi illuminati andò però a cascare nelle braccia di un'ancella di Aurelia la quale lo invitò a giocare credendo fosse una donna come lei e gli si rifiutò l'altra lo trascinò per un braccio nel centro della stanza e gli domandò chi era e da dove veniva Clodio rispose che stava aspettando Ambra una cameriera di Pompea così si chiamava la sua complice ma il timbro della voce lo smascherò l'ancella schizzò via immediatamente con uno strillo e corse verso dove c'era non la luce e il gruppo delle compagne gridando di aver scoperto in casa un uomo le donne furono stupite Aurelia sospese i mistici riti della dea ne coprì i simboli e fece chiudere gli usci poi spezzionò la casa da cima a fondo al lume delle fiaccole cercando Clodio lo trovano rintanato nella camera della fanticella che l'ha aiutato ad entrare e appena scoperto le donne lo buttano fuori dalla porta anch'esse si allontanarono immediatamente dalla casa di Cesare benché fosse notte alta e raccontarono l'incidente ai loro mariti cosicché prima di giorno la notizia fece il giro della città Clodio aveva commesso un sacrilegio di cui doveva rendere conto non solo a coloro che aveva offeso ma a tutta la cittadinanza e agli dèi uno dei tribuni sporse una denunzia contro Clodio accusandolo di impietà i membri più influenti del senato si coalizzarono contro di lui aggiungendo altre prove della sua spaventosa dissolutezza fra l'altro era colpevole di adulterio con una sua sorella sposata all'ucullo ma si oppose agli sforzi che costoro compirono per farlo condannare il popolo che si schierò dalla parte di Clodio e gli fu di grande aiuto nel processo poiché i giurati si spaventarono ed ebbero paura della folla Cesare ripudiò immediatamente Pompea ma quando fu chiamato a deporre quale testimonio durante il processo dichiarò di non sapere nulla riguardo alle cose che si dicevano di Clodio le sue parole sembrarono perlomeno strane tanto che l'accusatore gli domandò come mai dunque hai ripudiato tua moglie perché rispose Cesare credo che mia moglie non debba neppure essere sospettata secondo alcuni scrittori Cesare era in buona fede quando parlò al processo secondo altri volle ingraziarsi il popolo il quale desiderava salvare Clodio a tutti i costi comunque sia il giovane fu prosciolto dall'accusa poiché la maggioranza dei giurati consegnò la scheda scritta in lettere confuse pensarono di evitare così il rischio che avrebbero corso ad opera del popolo se lo avessero condannato e la disistima che avrebbero avuto di loro i nobili se l'avessero assolto subito dopo aver esercitato l'apretura Cesare ricevette come provincia da governare Liberia ma non era un compito facile sistemare creditori che alzavano la voce e gli impedivano di partire ricorse a Crasso che era allora l'uomo più ricco di Roma e aveva bisogno del vigore del calore dell'attività politica di Cesare per combattere Pompeo Crasso prese su di sé gli impegni di Cesare verso i più accesi e implacabili suoi creditori facendosi garante per una somma di 830 talenti così Cesare potrei partire alla volta della sua provincia si racconta che mentre la comitiva valicava le alpi passò accanto a una cittadina di barbari squallida e abitata da pochissime persone i compagni per così dire esclamarono ridendo chissà se anche qui i potenti del luogo ambiscono alle cariche pubbliche lottano e disputano tra loro per ottenere il primato fra i cittadini Cesare rispose loro serio io comunque preferirei essere il primo fraccostoro che il secondo a Roma a questa può essere avvicinata un'altra frase che Cesare ebbe a pronunciare in Iberia durante un momento d'ozio lesse uno scritto su Alessandro poi rimase per lungo tempo a meditare tra sé e sé e alla fine scoppiò in lacrime gli amici gli chiesero meravigliati quale potesse essere la causa del suo pianto e Cesare rispose non vi sembra un motivo sufficiente per essere addolorati il fatto che Alessandro alla mia età regnava già su tanti popoli mentre io non ho ancora compiuto nessuna impresa gloriosa appena arrivato in Iberia si mise subito al lavoro e in pochi giorni raccolse dieci reparti in armi da aggiungere a eventi preesistenti compì con essi una spedizione militare contro i Callaici e i Lusitani li sbaragliò e li incalzò fino all'oceano sottomettendo le nazioni che prima non erano soggette al gioco romano se concluse vantaggiosamente la guerra non meno vantaggiosamente stabilì la pace sia istituendo la concordia tra le città del paese sia e soprattutto sanando le contese tra i debitori e i creditori a quale scopo dispose a questo scopo dispose che i creditori prelevassero annualmente due terzi delle entrate dei debitori e del terzo rimanente potessero disporre i proprietari così si sarebbe fatto di anno in anno fino all'istinzione del debito questi provvedimenti fecero sì che quando lasciò la provincia era ormai famoso era diventato ricco lui e aveva arricchito i soldati attraverso le campagne militari per le quali fu anche acclamato imperatore ora i generali che aspiravano a celebrare il trionfo dovevano aspettare fuori dalla città finché avessero ottenuto tanto onore viceversa coloro che volevano ottenere il consolato si richiedeva che fossero presenti in città Cesare si trovava dunque nella condizione di dover scegliere fra l'uno e l'altro arrivato nelle vicinanze di Roma quando erano imminenti le elezioni consolari fece chiedere al senato il permesso di porre la propria candidatura senza presentarsi di persona attraverso i suoi amici Catone contrastò la richiesta di Cesare prima facendosi forte della legge poi quando vide che molti colleghi erano stati blanditi da Cesare con vari favori cercò di far fallire l'affare con l'arma del tempo consumando tutta la giornata mediante un lungo discorso Cesare decise di rinunciare al trionfo pur di ottenere il consolato entrato in città intraprende subito un'abile politica che trae in inganno tutti tutti eccetto Catone consisteva questa politica nella riconciliazione di Pompeo e di Crasso che erano i personaggi più influenti in Roma Cesare li indusse da avversari che erano a farsi amici e raccolse nelle proprie mani la forza che derivava da ambe due con quello che aveva la parvenza di essere un atto di umanità egli inavvertitamente rovesciò la costituzione di Roma non fu come credono in più il contrasto fra Cesare e Pompeo a provocare le guerre civili ma al contrario la loro amicizia in un primo tempo essi si coalizzarono per distruggere la nobiltà raggiunto questo scopo scesero in Lizza l'uno contro l'altro e Catone che profetizzò sovente che ciò sarebbe accaduto si guadagnò allora la nomea di uomo noioso e litigioso e più tardi di consigliere avveduto ma poco fortunato così Cesare scortato e difeso dall'amicizia di Crasso e di Pompeo giunse al consolato appena nominato console brillantemente insieme a Calpurnio Bibulo e insediato nella carica presentò presentò certe leggi che convenivano meglio a qualche audacissimo tribuno che ad un console che ad un console proponendo la divisione e l'assegnazione di terre per la gioia delle masse popolari l'opposizione degli ottimati in Senato gli offrì il pretesto che da tempo cercava levando alte grida e chiamando tutti a testimoniare che la violenza sprezzante del Senato lo spingeva necessariamente e suo malgrado a ricorrere al popolo e a corteggiarlo si presentò all'assemblea dei cittadini aveva da un lato Crasso e dall'altro Pompeo e chiese se approvavano le sue leggi essi risposero sì Cesare ne invocò l'aiuto per fronteggiare coloro che minacciavano di impedirne l'applicazione con le spade ed essi glielo promisero Pompeo soggiunse che avrebbe opposto alle spade la spada e lo scudo questa frase indegna del rispetto di cui Pompeo era circondato e della riverenza che si doveva al Senato degna piuttosto di un pazzo furioso di un giovane petulante spiacque agli aristocratici quando lo dirono ma fu gradita al popolo Cesare col segreto proposito di sfruttare ancora più la potenza di Pompeo gli fidanzò sua figlia Giulia benché fosse già fidanzata a Serviglio Cepione e a Serviglio disse che gli avrebbe dato la figlia di Pompeo benché non fosse libera neppure lei in quanto era già stata promessa a Fausto il figlio di Silla da parte sua sposò poco tempo dopo Calpurnia figlia di Pisone e fece eleggere console il suocero per l'anno successivo Catone protestò una volta ancora e violentemente gridando che non si doveva tollerare questo sistema di prostituirsi l'un l'altro il potere a prezzo di matrimoni e di procurarsi vicendevolmente province comandi militari ed eserciti per mezzo di donne il collega di Cesare Bibulo visto che per quanto facesse non riusciva ad impedire l'approvazione delle leggi pollute da Cesare e viceversa aveva più volte corso il rischio di essere ucciso nel foro insieme a Catone passò tutto il tempo del consolato chiuso in casa Pompeo subito dopo essersi sposato riempì il foro di armati e sostenne in quel modo il popolo nell'approvazione delle leggi tra l'altro fece assegnare a Cesare il governo di tutta la Gallia al di qua e al di là delle alpi nonché dell'Illirio con quattro corpi d'armata e suoi ordini per un periodo di cinque anni Catone tentò di avversare anche questi provvedimenti ma Cesare lo fece condurre in prigione pensando che si sarebbe appellato ai tribuni del popolo invece quello si incamminò senza aprir bocca Cesare che non soltanto gli ottimati erano disgustati del suo atto ma anche il popolino per il rispetto che aveva delle virtù di Catone lo seguiva silenzioso e depresso e degli stesso pregò nascostamente uno dei tribuni di sottrarre Catone all'arresto degli altri senatori pochissimi si presentavano con lui in consiglio la maggioranza disgustata dai suoi metodi di governo rimaneva assente un giorno uno di essi molto vecchio che si chiamava Considio disse che i suoi colleghi non si regavano in serato in senato per paura delle armi e dei soldati perché dunque gli chiese Cesare non resti anche tu a casa non le temi queste cose Considio rispose la vecchiaia non me le fa temere mi resta così poco da vivere che non ho bisogno di molta cautela ma il più vergognoso degli atti pubblici che ebbero luogo durante il consulato di Cesare pare sia stata a lezione a tribuno del popolo di quel Clodio che aveva attentato al suo matrimonio e alle leggi concernenti le veglie segrete della Dea Buona egli fu eletto allo scopo di rovinare Cicerone e Cesare non si mise in viaggio per raggiungere la sua provincia prima di aver con l'aiuto di Clodio suscitato una fazione avversa a Cicerone e cacciato l'oratore fuori d'Italia tali furono si dice i fatti salienti della vita di Cesare prima della conquista della Gallia ma negli anni che seguirono parve essersi incamminato per un'altra strada ed avere intrapreso una nuova vita adottato un nuovo modo d'agire le guerre che guerreggiò le campagne militari con cui domò la Gallia lo rivelarono soldato e stradega inferiore a nessuno dei più ammirati e grandi condottieri anzi si paragonino pure Cesare a Cesare e generali quali Fabio o Scipione o Metello o i suoi contemporanei o quelli a lui poco anteriori come Silla Mario i due Luculli o Pompeo stesso di cui pure fioriva a quei tempi e saliva fino al cielo la fama per la sua abilità in ogni settore militare eppure le imprese di Cesare sovrastano le loro una per i luoghi impervi ove combattè un'altra per i territori estesi che conquistò un'altra per il numero e la forza dei nemici che vinse oppure per la ferocia e la perfidia delle nazioni che civilizzò o per la bontà e la mansuetudine che dimostrò verso i prigionieri o per i regali e i favori che fece a chi combattè con lui e tutti insieme per il numero delle battaglie che disputò e dei nemici che uccise in meno di dieci anni quanto durarono le sue guerre in Gallia prese d'assalto più di ottocento città soggiocò trecento nazioni scese in battaglia separatamente con tre milioni di uomini ne uccise in combattimento un milione e ne fece prigionieri altrettanti i suoi soldati poi nutrirono verso di lui una tale simpatia e gli erano tanto affezionati che mentre nelle campagne militari precedenti non si erano dimostrati affatto superiori ai loro compagni ora riuscirono invincibili e si gettarono in qualsiasi pericolo per assicurare la gloria di Cesare nessuno poteva più resistere loro e qui si potrebbe citare quell'acilio che nella battaglia navale di Marsiglia saltò a bordo di una nave nemica ed ebbe la mano destra mozzata da un colpo di daga non depose però lo scudo che teneva con la sinistra ma premendolo sulla faccia dei nemici li sgominò tutti quanti e si impadronì della nave oppure Cassio Sheva che nella battaglia di Durazzo ebbe un occhio asportato da una freccia la spalla trapassata da un giavellotto come pure la coscia ricevette 130 proiettili sopra lo scudo e alla fine chiamò i nemici dicendo di volersi arrendere ma quando due di essi si fecero avanti ad uno staccò la spalla con la daga all'altro assestò un colpo in faccia e li fece fuggire entrambi riuscendo ancora a salvarsi perché i suoi camerati lo presero in mezzo e lo difesero quest'altro fatto avvenne in Britannia i nemici assalirono i comandanti dei reparti che si erano spinti innanzi ed erano caduti in una palude fangosa piena di acqua un soldato si lanciò però nel folto dei nemici Cesare assisteva di persona alla battaglia e dopo aver compiuto innumerevoli cospicue prove di coraggio mise in fuga i barbari salvò i comandanti e attraversò la palude per ultimo dopo tutti tra gravi difficoltà gettandosi nella corrente limacciosa e ne uscì infine a stento senza scudo un po' a nuoto un po' a piedi Cesare e il suo seguito meravigliati di tanta prodezza gli andarono incontro con grida di gioia ma il soldato assai sconfortato e lacrime si gettò ai piedi di Cesare e gli chiese perdono di aver abbandonato lo scudo in Libia invece le truppe di Scipione catturarono una nave appartenente alla flotta di Cesare sulla quale viaggiava Granio Petrone il questore eletto tutti gli altri membri dell'equipaggio furono considerati come preda di guerra al questore invece fecero salvo la vita e gli protestò che i soldati di Cesare usano concedere non ricevere la salvezza e si uccise con un colpo di spada chi suscitò e coltivò questa risolutezza e questo spirito di emulazione nelle sue truppe fu Cesare stesso egli anzitutto elargì senza risparmio denaro e onorificenze così dava a vedere di non volere ricavare dalle campagne di guerra ricchezze che servissero al suo lusso e al suo benessere personale ma tutto metteva da parte e conservava per premiare chiunque compisse un atto di valore la sua parte di ricchezza consisteva in ciò che dava ai suoi soldati meritevoli in secondo luogo si sottopose spontaneamente ad ogni loro rischio e non si sottrasse a nessuna delle loro fatiche che amasse il pericolo non stupiva i suoi uomini perché sapevano quanto era ambizioso ma la sua resistenza ai disagi superiore alla forza apparente del suo corpo li sbalordiva Cesare era di costituzione fisica asciutta di carnagione bianca e delicata subiva frequenti mal di capo e andava soggetto ad attacchi di epilessia la prima manifestazione pare l'ebbe a cordova eppure non sfruttò la propria debolezza come un pretesto per essere trattato con riguardo al contrario fece del servizio militare una cura della propria debolezza compiendo lunghe marce consumando pasti frugali dormendo costantemente a cielo aperto sottoponendosi ad ogni genere di disagi sgominò i suoi malanni e serbò il suo corpo ben difeso dai loro assalti si coricava la maggior parte delle notti su qualche veicolo o nella lettiga sfruttando il riposo per fare qualcosa durante il giorno si faceva portare in visita le guarnigioni alle città agli accampamenti ed aveva seduto al fianco uno schiavo che era abituato a scrivere sotto dettatura anche in viaggio e dietro in piedi un soldato con la spada sguainata viaggiava così rapidamente che la prima volta partì da Roma e compì il viaggio fino a Rodano in otto giorni cavalcare era sempre stato facile per lui fin da bambino sapeva persino mantenersi in sella col cavallo spinto a grande cadiera tenendo le mani riunite dietro il dorso durante la campagna militare in Gallia si esercitò inoltre a dettare lettere mentre cavalcava e a tenere testa contemporaneamente a due scrivani dice oppio o anche più si narra anzi che Cesare sia stato il primo ad usare la corrispondenza per tenersi in corrispondenza in contatto con i suoi amici quando la massa dei suoi impegni e l'estensione di Roma non gli consentivano di incontrarli di persona per discutere affari urgenti a dimostrare quanto poco fosse esigente in tema di vitto si cita di solito questo episodio un suo ospite presso cui mangiava a Milano Valerio Leone mise in tavola degli asparagi conditi con mirra anziché con olio Cesare li mangiò tranquillamente e rimbrottò i suoi amici che si sentivano offesi bastava disse che coloro a cui non piacevano non se ne servissero chi si lamenta di una zoticaggine come questa è uno zotico anche lui un'altra volta mentre era in viaggio una tempesta lo costrinse a riparare nella capanna di un poveraccio come vide che si componeva di non più di una stanza capace di ospitare a malapelo una sola persona disse rivolto agli amici gli onori spettano ai più potenti ma le comodità ai più deboli e impose a doppio di riposare lui nell'interno mentre egli dormì con gli altri sotto la gronda davanti alla porta delle guerre galliche di Cesare la prima fu combattuta contro Elvezi e Tigurini questi due popoli avevano incendiato le loro 12 città e 400 villaggi e stavano avanzando attraverso quella parte della Gallia che era sotto la dominazione romana come già una volta i Cimbri e i Teutoni anzi avevano fama di non essere inferiori ad essi in ardimento ed erano altrettanti numerosi ammontavano complessivamente a 300.000 persone di cui 190.000 combattenti i Tigurini furono annientati al passaggio del fiume Arare non da Cesare ma dall'abbieno che Cesare vi aveva mandato egli veniva salito invece alla sprovvista dagli Elvezi mentre si trovava per via e stava conducendo l'esercito in una città amica riuscì per poco a rifugiarsi dentro una piazza forte dove raccolse e ordinò le truppe in formazione di combattimento quando gli fu portato il cavallo disse mi servirà dopo la vittoria per l'inseguimento adesso andiamo all'attacco e mosse contro i nemici a piedi l'assalto fu lungo ed aspro ma la fase più dura della battaglia si ebbe intorno ai carri al campo nemico dove non solo gli uomini opposero resistenza e combatterono ma anche i loro figlioletti e le mogli si difesero fino alla morte e si fecero massacrare insieme agli uomini tanto che la battaglia non finì se non a mezzanotte ma oltre allo splendido risultato della vittoria a Cesare ne conseguì uno ancora più splendido raccolse quanti dei barbari erano scampati alla battaglia fuggendo centomila uomini in tutto e li costrinse a riguadagnare le terre che avevano abbandonato le città che avevano distrutto ciò fece nel timore che i germani passassero i confini e occupassero quel territorio se fosse rimasto disabitato la seconda guerra fu disputata decisamente contro i germani e in difesa dei galli benché poco prima mentre era Roma avesse fatto dichiarare egli stesso il loro capo Ariovisto alleato della città se non che i germani erano dei vicini insopportabili per i popoli soggetti a Cesare ed era evidente che alla prima occasione avrebbero abbandonato le loro sedi attuali e si sarebbero riversati sulla gallia occupandola Cesare al vedere i comandanti riluttanti alla guerra per la paura che ne avevano specialmente i giovani nobili che si erano aggregati alla spedizione col proposito di passarsela bene e di far quattrini li convocò a rapporto e comandò loro di ritirarsi e di non affrontare i rischi della battaglia contro voglia se erano vili e rammolliti fino a quel punto egli avrebbe marciato contro i barbari prendendo con sé la decima legione soltanto il nemico con cui si apprestava a combattere non era più valente dei cimbri né egli era generale meno valente di Mario a seguito di questa dichiarazione la decima legione gli mandò i suoi rappresentanti a esprimergli la propria gratitudine mentre le altre insultarono i propri comandanti e tutti insieme lo seguirono pieni di ardore e di entusiasmo dopo molti giorni di marcia si accamparono finalmente a duecento stadi dal nemico la marcia stessa che Cesare aveva compiuto scompigliò in parte i piani di Ariovisto questi non si aspettava certo che i romani muovessero all'attacco dei germani credeva che non avrebbero neppure atteso il loro arrivo l'audacia di Cesare lo meravigliò e vide che aveva turbato anche il proprio esercito ne svigorirono ancora più il coraggio le sacerdotesse coi presaggi che annunciarono queste sacre donne usavano divinare il futuro osservando i mulinelli formati dalle acque dei fiumi e traendo indizi dai vortici e dagli scrosci delle correnti allora appunto impedirono ai germani di ingaggiare battaglia prima che fosse comparsa in cielo una luna nuova Cesare lo venne a sapere vide che i nemici rimanevano fermi e tranquilli pensò fosse il momento opportuno per attaccarli mentre erano scoraggiati dalle predizioni anziché aspettare che venisse il momento propizio per loro sperrando una serie di assalti contro le fortificazioni e i colli su cui erano accampati li punzecchiò ed eccitò finché spinti dall'ira scesero e dietero battaglia Cesare inflisse loro una sconfitta in signe e li inseguì per 400 stadi fino a Reno la pianura rimase tutta coperta di cadaveri e di spoglie Ariovisto riuscì a passare Reno a Malapena con pochi compagni i morti si fanno ascendere a 80.000 ottenuti questi risultati Cesare desiderò sorvegliare da vicino l'evolversi della situazione a Roma lasciate le truppe a svernare tra i sequani scese nella Gallia Padana che faceva parte della provincia a lui affidata infatti il fiume Rubicone divide la Gallia Cisalpina dal resto d'Italia di là proseguì la sua politica demagogica molti andavano a visitarlo e a ciascuno accordava quanto gli chiedeva tutti rinviava o già soddisfatti o con la speranza di esserlo per tutta la durata della guerra in Gallia Pompeo non si accorse che Cesare quando non sbaragliava nemici con le armi dei romani attirava e soggiocava al suo volere i romani con le ricchezze dei nemici ma poiché venne a sapere che i Belgi la nazione più potente della Gallia padrona di un terzo del suo territorio si erano sollevati ed avevano ammassate decine e decine di migliaia di uomini in armi tornò immediatamente lassù compiendo il tragitto con grande rapidità piombò sui nemici mentre stavano saccheggiando i territori dei Galli alleati di Roma ne sbaragliò e distrusse i nuclei più compatti e numerosi che si batterono senza nessun valore i morti furono tanti che i Romani attraversarono a piedi paludi e fiumi profondi passando sopra i cadaveri tutti i popoli che erano insorti lungo le coste dell'oceano deposero le armi senza colpo ferire Cesare dovette compiere invece una spedizione contro i Nervi che erano la nazione più selvaggia e battagliera della Gallia settentrionale abitavano in mezzo a fitte boscaglie riposero quindi le famiglie e gli averi nel folto della foresta il più lontano possibile dal nemico e piombarono intorno addosso a Cesare all'improvviso forti di 60.000 uomini mentre egli era intento a fare erigere la palizzata del campo e non si aspettava per quel giorno la battaglia la cavalleria romana fu volta in fuga dei corpi d'armata il dodicesimo e l'ottavo furono circondati ed ebbero tutti i loro capi reparto uccisi se Cesare non avesse afferrato lo scudo e non si fosse aperto un varco tra coloro che combattevano davanti a lui gettandosi sui barbari e se la decima legione vedendolo in pericolo non fosse scesa di corsa dalle alture e non avesse spezzato le linee nemiche si pensa che nessuno sarebbe sopravvissuto quella volta invece grazie all'ardimento di Cesare i romani lottarono al di là delle loro forze come si usa dire non misero in rota dai nervi ma ne infranzero la resistenza di 60.000 che erano dicono che si siano salvati in 500 e 3 soli dei 400 consiglieri il senato come ebbe notizia di questi fatti decretò che si tenessero sacrifici agli dei si sospendesse ogni atto pubblico e si facesse festa per 15 giorni consecutivi quanti non erano mai stati riservati per nessuna vittoria precedente sembrò infatti che il pericolo fosse stato grande poiché si erano sollevate molte nazioni simultaneamente e poiché chi li aveva vinte era Cesare la simpatia che le masse nutrivano verso di lui rendeva la vittoria ancora più fulgida sistemata per bene ogni cosa in Gallia egli tornò a svernare nella penura del Po da dove lavorava per guadagnare a sé la città forniva prontamente il suo appoggio e il suo denaro ai candidati alle cariche pubbliche che se ne servivano per corrompere il popolo e una volta eletti essi facevano tutto ciò che poteva servire ad accrescere la sua potenza inoltre anche i personaggi più illustri ed influenti di Roma si incontrarono con lui a Lucca c'erano quasi tutti Pompeo Crasso Appio governatore della Sardegna Nepote proconsole in Iberia tanto che si trovarono contemporaneamente in quella città 120 littori e più di 200 senatori tennero insieme un conciliabolo in cui presero le seguenti decisioni Pompeo e Crasso dovevano essere eletti consoli l'anno seguente a Cesare si dovevano aumentare i finanziamenti e prolungare di altri cinque anni il comando in Gallia tutto ciò appariva quanto mai assurdo a chi aveva un po' di intelligenza le medesime persone che ricevevano da Cesare i denari in quantità sollecitavano il Senaro il Senato a dargliene altri dicendo che ne era sprovveduto o piuttosto lo costringevano a dargliene sebbene gemesse ogni volta che doveva votare Catone era assente lo avevano mandato opportunatamente in missione a Cipro Favonio unemolo di Catone quando si accorse che la sua posizione non approdava nulla uscì dall'aula sbattendo la porta e gridando alla folla che era un'ingiustizia ma nessuno gli badò tutti rimasero fermi alcuni per rispetto verso Pompeo e Crasso i più per compiacere Cesare siccome vivevano nella speranza di ottenere qualche beneficio da lui al suo ritorno presso i quartieri in Gallia Cesare trova il paese in preda ad una grossa guerra due potenti nazioni germaniche che si chiamavano l'una degli usipi l'altra dei tenteriti avevano avarcato il reno poco prima in cerca di terre dalla battaglia che disputò contro di essi Cesare scrive nel suo diario che i barbari mandarono un'ambasceria a trattare e poi durante la tregua lo assalirono mentre era in marcia per questo con soli 800 cavalieri ne sbaragliarono 5000 dei suoi che non si aspettavano di essere attaccati tentarono di ingannarlo un'altra volta mandandogli nuovi delegati ma egli li mise in catene e guidò la sua armata contro i barbari giudicando che sarebbe stata una dabbennaggine fidarsi di individui tanto malfidi e fredifraghi Tannusio narra però che quando il senato votò di celebrare feste e sacrifici per solennizzare la vittoria Catone espresse un'altra opinione che bisognava consegnare Cesare nelle mani del nemico per liberare Roma dal maleficio che la violazione della tregua le aveva procurato e farlo ricadere sul responsabile di quanti barbari passarono il fiume 400.000 furono massacrati pochi riuscirono a ripassarlo e furono accolti dai sugambri un'altra nazione germanica e furono accolti da un'altra nazione germanica Cesare si valse di questo pretesto per assalirli ma soprattutto mirava la gloria di essere il primo uomo che attraversasse il reno con un esercito a tale scopo costruì un ponte benché in quel punto il fiume sia molto largo e le corrente più gonfie che in qualsiasi alto tratto le acque vi scorrono impetuose i tronchi e i rami d'albero che trascina andavano ortare contro i piloni del ponte e li schiantavano ma Cesare arrestò questi detriti mediante grossi pali conficcati attraverso la corrente più a monte così le onde che prima si abbattevano sulla costruzione vennero ad essere come imbrigliate e poste sotto un gioco in dieci giorni ottenne di completare il ponte in tutti i suoi particolari cosa assolutamente incredibile anche se uno l'avesse vista con i propri occhi su di esso fece passare le truppe senza che nessuno osasse impedirglielo anche la più potente delle popolazioni germaniche quella degli svevi si ritirò con tutte le masserizie nelle profonde forre dei boschi Cesare mise a ferro e fuoco le terre dei nemici incoraggiò le popolazioni che erano sempre state affezionate ai romani quindi tornò nuovamente in Gallia dopo essere rimasto meno di venti giorni 18 in territorio germanico la sua spedizione in Britannia divenne celebre per l'audacia con cui fu condotta Cesare fu il primo condottiero a spingere una flotta nell'oceano occidentale e a navigare sul mare atlantico portando un esercito alla guerra l'isola su cui sbarcò ha un'estensione incredibile suscitò già una grande disputa fra moltissimi scrittori alcuni dei quali dicevano che non era mai esistita e il suo nome e la sua storia erano stati inventati Cesare tentando di impadronirsene estese l'impero di Roma oltre i limiti del mondo abitato la campagna richiese due traversate dalla costa della Gallia che sta di fronte dall'isola e molte battaglie con cui Cesare recò più danni ai nemici che vantaggi ai propri uomini poiché non vi era nulla che mettesse conto di portare via a quella gente infelice e miserabile neppure la conclusione fu quale Cesare desiderava lasciò l'isola con alcuni ostaggi che gli consegnarono il re e dopo aver imposto dei tributi a nome dei Romani allo sbarco trova delle lettere che stavano per essergli mandate in Britannia i suoi amici di Roma gli annunciano la morte della figlia morta di parto in casa di Pompeo tanto Pompeo quanto Cesare ne furono molto addolorati pure gli amici comuni furono sconvolti al pensiero che il vincolo che conservava in pace e in concordia lo stato malfermo si era spezzato anche la bambina sopravvisse di pochi giorni alla madre e morì il popolo a dispetto dei tribuni portò la salma di Giulia nel campo di Ares dove la seppellì e riposa tuttora Cesare si trovò costretto date le grandi proporzioni che aveva ormai il suo esercito a suddividerlo in molti quartieri per passare l'inverno egli come d'abitudine si avviò verso l'Italia la gallia intera insorse ancora una volta grandi armate circondarono i quartieri invernali dei romani tentarono di distruggerli e di assalire le palizzate i nuclei più numerosi e più potenti dei ribelli attaccarono l'accampamento di Cotta e di Titurio e sterminarono i comandanti insieme ai loro soldati 60.000 uomini circondarono e assediarono il corpo d'armata di Cicerone che per poco non finì distrutto durante l'assalto dove tutti i romani rimasero feriti e si difesero con ardore al di là delle loro forze Cesare era già lontano quando ebbe notizia di questi fatti tornato velocemente sui suoi passi radunò 7.000 uomini complessivamente e accorse a liberare dall'assedio Cicerone gli assedianti seppero però che si avvicinava e gli andarono incontro sicuri di travolgerlo per il poco conto che facevano di lui visto il numero esiguo dei suoi Cesare li eluse sottraendosi ogni volta alla battaglia finché trovò una posizione favorevole a chi come nel suo caso aveva pochi uomini e doveva combattere contro molti li fortifica il campo trattiene i suoi dall'entrare assolutamente in battaglia e li costringe invece ad alzare la palizzata e a fortificare per bene le porte in modo da far credere nemici che hanno paura con questo stratagemma mirava a far sì che gli avversari sottovalutassero le sue forze vennero infatti all'assalto disordinatamente per la loro presunzione e furono respinti con gravi perdite questo fatto d'armi assopì le numerose sedizioni che si erano verificate in quella parte della Gallia durante l'inverno Cesare si portò qua e là e intervenne rapidamente dove scoppiava qualche rivolta dall'Italia arrivarono tre corpi d'armata che dovevano rimpiazzare quelli distrutti due gli riprestava Pompeo dei suoi uno era stato coscritto recentemente nella Gallia Padana ma nei punti più remoti della Gallia stavano manifestandosi i germi di quella che sarebbe stata la più grandiosa e pericolosa delle guerre disputate lassù seminati da tempo e coltivati dai personaggi più influenti delle più battagliere tribù del paese essi traevano vigore dalle larghe masse di giovani che accorrevano da ogni parte sotto le armi dalle grandi ricchezze che furono messe insieme dalle città fortificate e dai territori inaccessibili durante la stagione invernale poi i fiumi erano ghiacciati per il gelo le nevicate avevano coperto le boscaglie e i torrenti trasformato in paludi le praterie qui l'altezza della neve aveva cancellato i sentieri là i laghi e corsi d'acqua erano straripati e rendevano molto incerto il cammino tutte queste difficoltà sembravano rendere assolutamente impossibile per Cesare catturare le posizioni dei ribelli e molte erano le tribù che si erano ribellate dietro la scia degli arverni e dei carnutini il potere e la direzione di tutta la guerra erano stati conferiti a un vercingetorige il cui padre i galli uccisero perché lo sospettavano di volere instaurare una tirannide nel suo paese vercingetorige suddivise le proprie forze in molti gruppi e pose alla testa di ognuno molti comandanti quindi venne associando via via alla ribellione tutti i popoli che abitavano fino al bacino della rare era sua intenzione sollevare la gallia e prendere le armi ora mentre gli avversari di Cesare in Roma si stavano coalizzando e certamente se l'avesse fatto un poco più tardi quando Cesare fu coinvolto nelle guerre civili l'Italia sarebbe caduta in preda a gravi timori pari a quelli che la percorsero ai tempi dei cimbri se non che Cesare aveva ricevuto dalla natura il dono di saper sfruttare quanto meglio possibile tutti gli elementi che servono ad ottenere il successo in una guerra soprattutto il tempo non appena venne a sapere che era scoppiata la rivolta si mise in cammino passando per le medesime strade che aveva già percorso e diede a conoscere i barbari tale fu la potenza e la velocità della sua marcia pur nel cuore di un inverno così rigido che stava sopraggiungendo un'armata imbattibile cui nessuno poteva resistere laddove non avrebbero creduto che una staffetta un corriere di quelli al suo servizio potessero passare anche molto tempo videro passare lui con un'intera armata devastando terre abbattendo i capisaldi radendo al suolo città accogliendo coloro che si trasferivano dalla sua parte alla fine scese in campo contro di lui anche la nazione degli edui che in passato si erano sempre proclamati fratelli dei romani ed erano stati da questi singolarmente onorati ma allora si unirono ai rivoltosi e gettarono l'armata di Cesare in un grande scoramento egli si allontanò perciò dal loro paese e attraversò il territorio dei lingoni volendo raggiungere quello dei sequani che gli erano amici e stavano come un avamposto dell'Italia verso il resto della Gallia là i nemici lo assalirono e lo circondarono con molte decine di migliaia di uomini Cesare colse l'occasione per disputare una battaglia decisiva e in complesso ebbe la meglio sui barbari domandoli dopo una lunga battaglia e molta strage ma all'inizio ci fu un momento in cui sembrò che dovesse rimanere sconfitto gli arverni mostrano ancora oggi al visitatore uno spadino appeso alle pareti di un santuario che dicono fu preso a Cesare Cesare stesso sorrise quando più tardi lo vide gli amici lo sollecitarono a farlo togliere di lama egli non volle stimandolo un oggetto sacro oramai per il momento tuttavia la maggior parte dei fuggiaschi ripararono con re nella città di Alesia Cesare vi pose l'assedio benché sembrasse imprendibile grandi mura la cingevano e i suoi difensori erano numerosissime ma in un pericolo più grave di quanto si possa descrivere venne a trovarsi per il sovraggiungere di forze nemiche alle sue spalle un'armata di 300.000 uomini il fiorfiore di tutta la Gallia si concentrò e marciò in armi verso Alesia le truppe che si trovavano in città non ascendevano a meno di 170.000 combattenti Cesare fu preso in mezzo tra due forze nemiche di tale entità e si trovò a sua volta assediato tanto da essere costretto a erigere per difendersi due muri uno verso la città l'altro verso coloro che erano venuti a liberarla era chiaro che se le due armate si fossero congiunte la sua sorte sarebbe stata irrimediabilmente segnata il pericolo che Cesare corse sotto Alesia gli procurò a ragione per molti motivi grande fama egli vi spiegò atti di ardimento e di destrezza quali mai aveva compiuto nelle lotte precedenti ciò che meraviglia soprattutto è il modo come Cesare riuscì ad azzuffarsi con tante decine di migliaia di uomini quanti erano quelli che assalivano dall'esterno e a vincere senza che gli altri quelli chiusi in Alesia se ne accorgessero dirò di più senza che se ne accorgessero persino i romani che erano schierati a difesa del muro costruito di fronte alla città essi seppero della vittoria dei compagni quando la battaglia era finita e udirono davanti a sé un gemere d'uomini le donne che si battevano il capo in segno di lutto e dalla parte opposta videro i romani che portavano nell'accampamento in grande numero targhe ornate d'argento e d'oro corazze arrossate di sangue e poi coppe e tende di foggia gallica un'armata così grande fu dispersa così rapidamente e svanì come un fantasma o un sogno poiché la maggioranza dei suoi componenti cadde in battaglia le truppe che occupavano l'esia procurarono ancora non pochi guai a se stesse ed a Cesare ma alla fine si arresero colui che aveva diretto tutta la guerra vercingetorige indossò l'armatura più bella bardò il cavallo uscì in sella dalla porta e andò a compiere un giro intorno a Cesare che lo aspettava seduto quindi scese da cavallo si spogliò di tutte le armi che portava e si assise ai piedi di Cesare immobile finché non venne consegnato alle guardie per essere custodito in vista del trionfo da tempo Cesare aveva deciso di abbattere Pompeo come d'altra parte Pompeo aveva deciso di fare la stessa cosa nei suoi riguardi Crasso che aspettava di misurarsi con quello dei due che fosse sopravvissuto alla lotta era perito fra i parti non rimaneva quindi a Cesare che abbattere chi era allora il più potente per esserlo poi lui e a Pompeo di eliminare in tempo l'oggetto dei suoi timori per non dover subire quella sorte solo da poco tempo Pompeo aveva cominciato a temere Cesare fino ad allora aveva sottovalutato l'avversario convinto che non sarebbe stata un'impresa ardua per lui abbattere nuovamente l'uomo che aveva innalzato Cesare invece si era prefisso fin dall'inizio questo scopo come fanno gli atleti si era partato lontano dai suoi avversari nelle guerre galliche si era esercitato aveva guerrito le sue forze aveva accresciuto la sua fama ora le sue imprese lo elevavano e ne facevano un degno rivale di Pompeo buoni pretesti per la guerra gliene offrivano sia Pompeo stesso sia le circostanze sia il cattivo governo che c'era a Roma dove i candidati ai vari uffici mettevano un tavolo in piazza e compravano sfacciatamente a contanti i voti delle masse il popolo si presentava alle elezioni dopo aver ricevuto una buona paga e là competeva non con l'arma del voto ma con archi e spade e fionde vere i contendenti dovettero essere separati a forza molte volte dopo che avevano profanato la tribuna degli oratori col sangue dei morti lasciando la città in preda all'anarchia quasi sballottata fra le onde senza il governo del pirota i ben pensanti sarebbero stati lieti considerando quale era la perversione delle menti e quanto grave la tempesta da cui erano minacciati se la situazione non approdasse a un esito più doloroso per loro della monarchia erano in molti ormai coloro che osavano dire apertamente come lo Stato non potesse essere sanato se non da una forma di governo assoluto e questo rimedio doveva essere adottato quando e alludevano a Pompeo il medico che lo porgeva era il più delicato che ci potesse essere Pompeo stesso pur vantandosi a parole di non voler assumere il potere in realtà prendeva tutte le misure utili per farsi eleggere dittatore in considerazione di questo Stato di cose Catone persuade il Senato a nominare Pompeo console unico pago di questo principato più legale egli non avrebbe cercato di farsi eleggere dittatore con la forza con un'altra votazione il Senato gli prorogò il governo delle province esse erano due l'Iberia e l'Africa che Pompeo amministrava inviando dei suoi delegati e mantenendo colà degli eserciti per i quali riceveva dal tesoro pubblico mille talenti ogni anno appena lo seppe Cesare mandò a sollecitare il consolato e una proroga di ugual durata nel governo delle province anche per sé sulle prime Pompeo stette zitto mentre Marcello e Lentulo si opposero alle sue richieste essi odiavano Cesare per altre ragioni e aggiunsero a ciò che era necessario dire e fare altre cose che non lo erano allo scopo di disonorarlo e offenderlo tolsero ad esempio la cittadinanza agli abitanti di Como una colonia fondata poco prima da Cesare nella Gallia Marcello mentre era console fece picchiare con le verghe un senatore nativo di quelle parti che era venuto a Roma quel marchio glielo imprimeva disse affinché si vedesse che non era un cittadino romano e lo invitò ad andare a mostrarlo a Cesare il consolato di Marcello dopo il consolato di Marcello Cesare aveva ormai permesso a chiunque partecipassi alla vita politica in Roma di attingere a larghe mani dalle ricchezze che aveva accumulate con le campagne militari in Gallia il tribuno Curione si era liberato da molti debiti il console Paolo aveva ricevuto 1500 talenti e con essi aveva aggiunto la decorazione a quell'insigna edificio che è la basilica da lui eretta nel foro in sostituzione della fulvia Pompeo fu intimorito dalla coalizione di tanti uomini potenti e brigò apertamente ormai sia di persona sia per il tramite dei suoi amici affinché si nominasse un successore a Cesare nel governo delle province mandò inoltre a chiedere al rivale i soldati che gli aveva imprestato per condurre la guerra contro i Galli Cesare glieli rimandò dopo aver regalato a ciascuno 250 dracme ma gli ufficiali che portarono a Pompeo queste truppe sparsero tra la folla alcune voci su Cesare che non erano né oneste né vere e rovinarono Pompeo stesso illudendolo di essere l'idolo dell'esercito di Cesare gli dissero che se Roma stentava ad imporsi a cagione dell'invidia che corrodeva uno stato in putrefazione lassù egli disponeva di forze pronte ad ogni suo ordine appena fossero passate in Italia si sarebbero dichiarate per lui poiché odiavano Cesare per il gran numero di campagne militari cui le aveva costrette e lo sospettavano temendo che volesse farsi signore assoluto di Roma la vanità di Pompeo si sentì sollecitata da queste menzogne non curò di provvedersi di soldati come se non ne avesse motivo di temere e cercò di vincere l'avversario politicamente come credeva facendo respingere con discorsi e proposte certi provvedimenti che a Cesare importavano ben poco ma si racconta pure che uno degli ufficiali di Cesare venuto a Roma stava un giorno davanti al Senato quando udì che i senatori non volevano concedere al generale alcun prolungamento del governo glielo procurerà ben questa esclamò scotendo con la mano l'impugnatura della daga la richiesta di Cesare aveva non di meno una chiara apparenza ad essere ragionevole egli accettava di deporre le armi se anche Pompeo avesse fatto altrettanto tornati ambedue cittadini privati avrebbero potuto cercare di ottenere qualche onore dai loro compatrioti togliere invece a lui solo l'esercito che comandava e confermare a Pompeo il comando del suo equivaleva a calugnare l'uno attribuendogli l'intenzione di farsi tiranno e fornire all'altro i mezzi per diventarlo quando Curione presentò all'assemblea queste richieste fu vivamente applaudito alcuni popolani gli lanciarono persino delle corone come si gettano fiori agli atleti vittoriosi il tribuno Antonio divulgò da parte sua una lettera in proposito che Cesare gli aveva mandato leggendola pubblicamente a dispetto dei consoli in senato il suocero di Pompeo Scipione presentò una mozione per cui se Cesare non avesse deposto le armi entro un giorno fissato sarebbe stato dichiarato nemico pubblico i consoli posero al consiglio due domande se Pompeo dovesse licenziare i suoi soldati oppure Cesare dovesse licenziare i suoi alla prima pochissimi risposero affermativamente alla seconda tutti eccettuati pochi ma la proposta di Antonio che deponessero il comando entrambi fu accettata da tutti indistintamente se non che Scipione cominciò poi ad inveire ed il consolo elentulo si mise a gridare che contro un ladrone quale Cesare occorrevano armi non voti sicché la seduta fu sciolta e i senatori si vestirono a lutto come se il distenso tra Cesare e Pompeo fosse una calamità pubblica nuove lettere mandate da Cesare sembravano indicare che avesse assunto una posizione più moderata accettava di rinunciare ad ogni altro comando militare pur che gli fosse assegnato il governo della Gallia Cisalpina e dell'Illirico con annessi due corpi d'armata e ciò finché non avesse presentato la propria candidatura al suo secondo consolato Cicerone l'oratore che era appena tornato dalla Cilicia che lavorava per una pacificazione degli animi cercò di ammanzire Pompeo ma questi era disposto a cedere su tutto il resto pur che gli si togliessero i soldati Cicerone pure tentò di convincere gli amici di Cesare a fare qualche concessione sulla base delle province richieste da Cesare e di 6.000 soldati soltanto si poteva raggiungere un accordo Pompeo si piegava a concedergli tanto ma non lo permise il console Lentulo che dopo aver insultato ben bene Antonio e Curione li espulse dal senato in modo offensivo così fornì egli stesso a Cesare il pretesto più elegante con cui eccitare i soldati fino al parossismo mostrando loro quegli uomini stimati e insigniti di una carica pubblica che erano stati costretti a fuggire noleggiando una vettura e due cavalli e travestendosi da schiavi Antonio e Curione per paura si erano realmente camufati a quel modo per uscire da Roma in quel momento Cesare non aveva intorno a sé più di 300 cavalieri e 5000 opliti aveva lasciato infatti il grosso dell'armata al di là delle Alpi sebbene l'avesse già mandata a prendere al più presto vide che peraltro il principio e l'avvio dell'impresa in cui si era messo non richiedevano per il momento grandi forze militari mentre conveniva piuttosto cogliere l'occasione propizia e intimorire l'avversario con audacia e rapidità era più facile sbigottirlo con un colpo inatteso che sbaragliarlo con un attacco preparato ordinò pertanto ad alcuni suoi ufficiali e capideparto di andare a occupare Rimini che è una grande città gallica avendo con sé le spade soltanto senza altre armi allo scopo di evitare il più possibile stragi e perturbamenti fra la popolazione affidò il comando di queste forze a Ortenzio trascorse la giornata in pubblico intervenendo e assistendo agli esercizi di alcuni gladiatori un po' prima di sera si rassettò ed entrò nella sala dove aveva invitato a pranzo alcuni personaggi e si trattenne brevemente con essi come divenne buio si alzò ed uscì non senza aver salutato affettuosamente tutti i presenti e averli esortati ad attenderlo finché non fosse tornato ma aveva già preavvertito un piccolo gruppetto di amici di seguirlo non tutti insieme ma ognuno per una via diversa montò su una vettura due cavalli che aveva noleggiato e prese da prima un'altra strada a un certo punto deviò in direzione di Rimini finché giunse al fiume che segna il confine tra la gallia Cisalpina e il resto dell'Italia il suo nome è Rubicone quanto più si avvicinava al momento fatale tanto più si sentiva turbare dalla gravità di ciò che stava osando e la riflessione sottentrava all'ardimento rallentò la corsa dei cavalli poi ne fermò il passo e chiuso in un silenzio profondo fece passare davanti alla mente le possibilità che gli rimanevano in un senso come nell'altro in quei momenti le sue risoluzioni mutarono più volte fece partecipi dei suoi dubbi anche gli amici presenti tra cui era Pollione Asinio valutando con essi le sciagure che il transito avrebbe cagionato al genere umano ma anche la fama che di esso avrebbero lasciato ai posteri alla fine quasi abbandonando la ragione per lanciarsi con un atto d'audacia verso il futuro mormorò la frase che dicono comunemente coloro i quali si gettano in qualche impresa disperata ed audace sia tratto il dado e iniziò il passaggio del fiume procedendo di corso ormai per il resto della strada entrò in Rimini prima di giorno e lo occupò si racconta che la notte precedente il passaggio del rubicone Cesare fece un sogno raccapricciante gli pareva di unirsi in modo incestuoso con la propria madre dopo che Cesare ebbe occupato Rimini sembrò che la guerra si fosse scatenata ugualmente sopra tutta la terra e tutti i mari rovesciandosi sul mondo attraverso ampie porte e parve che insieme ai limiti della provincia di Cesare fossero stati sconvolti quelli delle leggi di Roma nessuno avrebbe detto che come accadeva le altre volte uomini e donne fuggissero di qua e di là per l'Italia in preda al terrore ma sembrava che le città medesime si alzassero dal luogo dove erano costruite e l'una passasse attraverso l'altra Roma poi gonfiata se così si può dire dalla fiumana dei fuggiaschi che vi si trasferivano dai paesi vicini maldisposta ad obbedire alle autorità e a piegarsi alla ragione per poco non si capovolse da sola sotto le vaste ondate di quel mare in tempesta non ci fu luogo dove non si scatenassero passioni contrastanti e agitazioni violente nemmeno quella parte della popolazione che si rallegrava della piega assunta degli avvenimenti rimaneva tranquilla incontrando in molti luoghi qua e là per le strade per la grande città la parte contraria ne nascevano liti tra gli uni intimoriti addolorati e gli altri traccotanti per la fiducia che avevano nel futuro Pompeo stesso già sconvolto per conto suo dagli avvenimenti era ancora più turbato da ciò che ora l'uno ora l'altro gli diceva chi gli attribuiva la responsabilità di avere reso grande e potente Cesare contro il suo interesse e l'autorità dello Stato chi l'accusava invece di avere lasciato che l'entulo lo insultasse alteramente quando l'avversario era disposto accedere e avanzava offerte ragionevoli per comporre la disputa Favonio lo invitava a battere il piedere in terra bisogna sapere che un giorno Pompeo aveva tenuto al Senato un discorso presuntuoso invitando i colleghi a non impicciarsi né darsi pensiero per i preparativi della guerra quando anche scoppiasse battendo il terreno col piede egli avrebbe riempito l'Italia di eserciti ciò nonostante anche in quelle circostanze le forze di cui disponeva Pompeo erano superiori a quelle di Cesare se non che nessuno lo lasciava libero di seguire i suoi piani sotto la pressione di notizie contrastanti di menzogne di paure credendo che la guerra fosse già alle porte di Roma ma il divampasse ovunque cedette e si lasciò trascinare dall'impeto degli altri fece sapere mediante un decreto che egli vedeva in atto uno stato di guerra civile e abbandonò la città ingiungendo ai senatori di seguirlo nessuno di coloro che preferivano alla tirannide la libertà della patria doveva rimanere i consoli quindi fuggirono senza neppure offrire i sacrifici che usano fare prima di uscire dalla città e fuggì anche la maggioranza dei senatori prendendo con sé ciò che capitava sotto mano delle loro cose come se saccheggiassero roba altrui anche parecchie delle persone che prima avevano abbracciato animosamente la causa di Cesare all'ultimo momento sotto la spinta della paura perdettero il bene della ragione e si lasciarono trascinare dalla corrente di quel fiume in piena benché non avessero nulla da temere lamentevole veramente lo spettacolo della città sballottata da una tempesta di tale violenza nave abbandonata dai nocchieri e spinta dalle onde a sfasciarsi contro il primo scoglio che avesse incontrato eppure per quanto lamentevole fosse l'esodo i cittadini pensavano che la loro patria fosse là dove si fuggiva e lasciarono Roma come se fosse l'accampamento di Cesare persino l'abbieno che di Cesare era stato amico tra i più intimi e luogotenente che aveva lottato al suo fianco con grande ardore durante tutte le guerre in Gallia ora lo abbandonò e raggiunse Pompeo ciò nonostante Cesare gli fece avere i suoi denari e il bagaglio poi mosse contro Domizio che alla testa di trenta coorti presidiava Corfinio e si accampò nei dintorni della città Domizio disperò di potersi salvare chiamò un suo schiavo che era medico e si fece dare del veleno perciò prese ciò che lo schiavo gli diede e lo beve convinto di morire entro breve tempo ma poco dopo gli fu detto che Cesare contrariamente a quanto ci si aspettava trattava generosamente i prigionieri ma le disse allora se stesso e si lamentò di aver preso una decisione troppo affrettata lo rincuorò il medico aveva ingerito gli disse una porzione mortale non una porzione mortale ma un sonnifero Domizio si alzò giulivo e andò a consegnarsi a Cesare che gli strinse amichevolmente la mano ciò nonostante alla prima occasione scappò e passò di nuovo nelle file di Pompeo queste notizie riferite a Roma rallegrarono la popolazione e parecchie persone che erano scappate e tornarono indietro Cesare prese ai suoi ordini l'armata di Domizio e così gli altri soldati arruolati da Pompeo che sorprendeva via via nelle città dove arrivava come gli parve di avere ormai un esercito numeroso e temibile mosse direttamente contro il rivale ma questi non aspettò il suo arrivo fuggito a Brindesi spedì per primi a Durazzo i consoli e parte delle truppe poco dopo al sopraggiungere di Cesare salpò anche egli come sarà particolareggiatamente scritto nella sua vita tutte le intenzioni che Cesare aveva di inseguirlo senza indugio furono frustrate dal fatto che non aveva navi a sua disposizione tornò quindi a Roma in 60 giorni e senza spargere una goccia di sangue era divenuto padrone di tutta l'Italia trovò la città più tranquilla di quanto prevedeva vi erano rimasti molti membri del Senato a cui parlò in termini moderati e cordiali sollecitandoli persino a mandare qualcuno da Pompeo che trattasse un accordo su basi accettabili per entrambi ma nessuno gli dì d'ascolto o per paura di Pompeo che avevano abbandonato perché convinti che Cesare nella sua testa non la pensasse veramente così e si servisse di quelle belle parole per coprire le sue reali intenzioni e in vero quando il tribuno Metello cercò di impedirgli di prendere del denaro dalle riserve dello Stato citando alcune leggi che vietavano a chiunque di toccarlo egli rispose che il tempo delle armi è diverso dal tempo delle leggi se ciò che io faccio ti spiace disse per ora togliti di mezzo la guerra non ammette di parlare così liberamente quando avremo concluso un accordo e avrò deposto le armi allora vieni e di tutto ciò che ti piace nota che con queste parole io rinuncio ai miei diritti già che tu mi appartieni così come tutti quelli dei miei avversari che sono caduti nelle mie mani ciò disse a metello e si incamminò verso le porte del tesoro ma non si trovavano le chiavi ma andò a cercare dei fabbri a cui ordinò di spezzare i battenti ancora una volta a metello si interpose e ci fu qualcuno che lo elogiò per il suo comportamento Cesare alzò la voce e minacciò di ucciderlo sul posto se non la smetteva di importunarlo e tu sai disse Giovincello che mi costa più il dirlo che il farlo bastarono queste parole perché metello si ritirasse loro impaurito e si fornisse prontamente subito a Cesare quant'altro gli bisognava per la guerra decise in primo luogo di sloggiare dall'Iberia a Franio e Varrone luogotenenti di Pompeo e di muovere poi contro Pompeo stesso quando avesse avuto in suo potere le loro milizie e province e non avesse più nemici alle spalle partito per l'Iberia vi si trovò più volte in pericolo di perdere la vita a causa specialmente delle imboscate che gli tese il nemico e l'esercito a causa della fame non desistette per questo dall'inseguire provocare e bloccare i due luogotenenti di Pompeo circondandoli confostati finché si impadronì con forza dei loro accampamenti e delle loro truppe i comandanti tuttavia si salvarono e fuggirono da Pompeo al suo ritorno a Roma il suocero Pisone lo consigliò di mandare a Pompeo qualche persona di sua fiducia per tentare un accordo Isaurico che voleva ingraziarselo si oppose invece ad ogni azione del genere il senato lo proclamò dittatore Cesare richiamò a casa gli esuli restituì i figli di coloro che erano caduti vittime di Silla i diritti e gli onori di cui godevano i padri sollevò i debitori ordinando un certo sgravio degli interessi che dovevano pagare e adottò altri provvedimenti simili seppure non molti perché conservò il potere sovrano per soli undici giorni poi vi rinunciò proclamandosi console da sé insieme a Serviglio Isaurico e partì per la guerra raggiunse le sue truppe che erano ancora per strada le superò a tappe forzate e si mise in mare con 600 cavalieri scelti e 5 corpi d'armata era il sostizio d'inverno ai primi giorni del mese di gennaio che corrisponde circa al posidone degli ateniesi attraversato lo Ionio Cesare prende terra ad Orico e ad Apollonia di lì rimanda indietro la flotta Brindesi ovvero dovrà prendere a bordo altri uomini rimasti per strada si trattava di uomini ormai vecchi d'età e per di più consunti da un numero strabocchevole di guerre che rimproveravano a Cesare di averli costretti a disputare dove a qual fine quest'uomo ci deporrà dopo averci portato in giro un po' per tutto il mondo ci ha adoperati come se fossimo oggetti insensibili alla fatica e senza anima ma anche una lama si ottunde dopo un certo numero di colpi anche di una targa e di una corazza si avrebbe riguardo dopo averle usate quanto costui si è servito di noi non bastano le nostre ferite a far riflettere Cesare che sono dei mortali coloro a cui comanda e che come mortali siamo soggetti alla stanchezza e al dolore neppure gli dèi possono far forza alle stagioni imporsi all'inverno e alle bufere che in questo periodo dell'anno spazzano il mare e costui vi si espone noi con lui come se fuggisse non inseguisse i nemici fra tali chiacchiere se ne vennero belli belli fino a brindesi come vi giunsero trovarono che Cesare era già salpato ed eccoli cambiare subito mente e imprecare contro se stessi definendosi traditore del proprio condottiero e contro gli ufficiali perché non li avevano sollecitati durante la marcia seduti sulle più alte cime della costa scrutavano il mare in direzione dell'Epiro semmai si scorgessero le navi che dovevano ricongiungerli sulla sponda opposta a lui Cesare ad Apollonia si affliggevano meno di loro non sapeva cosa fare le forze che aveva con sé erano insufficienti a disputare qualsiasi battaglia quelle che erano rimaste in Italia tardavano ad arrivare infine prese una risoluzione disperata decise di imbarcarsi all'insaputo di tutti su un battello a dodici remi e di salpare alla volta di brindisi a dispetto di tutte le flosse nemiche che incrociavano sul mare si imbarcò nottetempo travestito da schiavo e si buttò in un angolo del battello come fosse una persona di nessun conto senza dire parola il fiume Aho portava la nave giù verso il mare ma la brezza mattutina che a quell'ora solitamente manteneva tranquille le acque alla foce dell'Aho tenendone lontani flutti fu neutralizzata da un vento impetuoso che durante tutta la notte soffiò dal mare aperto verso la terra perciò la corrente del fiume urtava selvaggia contro il flusso del mare e la barriera delle onde era ributtata impetuosamente con grande fragore e disseminata di vortici pericolosi il pilota che non riusciva ad avere ragione delle acque comandò ai rematori di invertire la voga per tornare indietro ma Cesare appena se ne accorse si diede a conoscere per chi era e preso per mano il pilota esterefatto alla sua vista gli disse avanti o valente uomo abbi coraggio non hai nulla da temere tu porti Cesare e la sua fortuna naviga insieme a te i marinai dimenticarono la tempesta si aggrapparono ai remi e tentarono ancora una volta con tutto il vigore di cui erano capaci di vincere il fiume ma ogni sforzo fu inutile dopo aver imbarcato una grande quantità d'acqua e corso il pericolo di naufragare alla foce del fiume Cesare acconsentì seppure a malincuore che il pilota invertisse la rotta al suo rientro nell'accampamento i soldati di andare all'incontro in massa lo rimproverarono assai si dolzero con lui perché non aveva avuto fiducia di poter vincere soltanto con il loro aiuto e si era angustiato anzi esposto al pericolo di morire per andare a prendere gli assenti non aveva dunque fiducia nei presenti poco dopo arrivò però da brindisi Antonio e con lui i rinforzi Cesare si sentì pronto a sfidare Pompeo benché l'avversario si fosse sistemato in buona posizione da dove poteva ricevere abbondanti riforniture sia da terra che dal mare Cesare invece sin dal primo momento non aveva nuotato nell'abbondanza in seguito fu colpito addirittura da una vera e propria carestia di viveri i suoi soldati furono costretti a strappare dalla terra una sorta di radici che mangiavano impastandole con latte una volta ne fecero anche dei pani e andarono a gettarli di corsa dentro agli avamposti nemici buttandone un po' qua e un po' là dissero per giunta agli avversari che finché la terra produceva simili radici non avrebbero desistito dall'assediare Pompeo Pompeo provvide tuttavia perché sia i pani sia i discorsi non arrivassero al grosso dell'esercito temendo che i soldati si scoraggiassero e fossero presi dal terrore se avessero saputo di avere a che fare con nemici selvaggi e indomabili come belve ogni giorno davanti alle fortificazioni di Pompeo avveniva qualche scontro isolato Cesare ebbe sempre la meglio in tutti tranne in uno dove le sue truppe volsero in fuga a precipizio e rischiò di perdere il campo Pompeo l'attaccò nessuno dei suoi resistette le fosse si riempirono rapidamente di cadaveri altri uomini caddero sotto la palizzata e i muri perimetrali dell'accampamento sospinti in fuga disordinata Cesare tentò di far rientrare in battaglia i fuggiaschi parandosi davanti a loro ma senza risultato anzi mentre stava per prendere in mano lui le insegne coloro che le portavano le gettarono via 32 caddero in mano al nemico non rimase ucciso per poco anche lui quando gli passò accanto un uomo grande e robusto che fuggiva insieme agli altri ed egli lo abbrancò con una mano gli ordinò di fermarsi e di far fronte al nemico l'altro sconvorto come era dal terrore per il pericolo che ingombeva su tutti alzò la daga nell'intento di colpirlo e l'avrebbe fatto se lo scugiero di Cesare non l'avesse prevenuto troncandogli netta la spalla Cesare quella volta disperò di poter salvare la sua causa tanto che quando Pompeo ispirato forse dalla cautela o forse dalla fortuna del nemico non sfruttò fino in fondo un'azione che poteva essere decisiva e si ritirò pago di aver fatto rinchiudere i fuggiaschi dentro la palizzata Cesare allontanandosi dal campo di battaglia disse agli amici oggi i nemici avrebbero colto la vittoria definitiva se avessero avuto dalla loro parte il vincitore e si ritirò nella tenda si coricò ma passò la notte più desolata che si possa immaginare sprofondato in vane e lucubrazioni si disse di avere condotto male la campagna poiché a breve distanza di lì si stendeva una terra fertile le felici città della Macedonia della Tessaglia ed egli aveva mancato di portare là il fronte della guerra era rimasto invece fermo vicino al mare che i nemici controllavano mediante la loro flotta e dove era assediato ad opera della carestia anziché assediare con l'opera delle armi l'impossibilità di approvvigionarsi di viveri e le difficoltà del momento lo fecero rigirare nel suo giaciglio finché prese la decisione di levare il campo e di portare avanti l'esercito fino alla Macedonia lì si sarebbe battuto con Scipione e Pompeo sarebbe stato attratto a combattere in una regione dove non poteva più rifornirsi così facilmente dal mare se viceversa avesse lasciato Scipione solo egli lo avrebbe sconfitto la partenza di Cesare diede coraggio all'armata di Pompeo gli ufficiali che lo attorniavano fecero pressioni su di lui affinché tenesse dietro al nemico che ritenevano ormai battuto e fuggitivo Pompeo andava cauto invece prima di rischiare una battaglia dalla posta così grande era provvisto come meglio non si sarebbe potuto di ogni cosa e per molto tempo giudicava quindi che gli convenisse logorare a poco a poco le forze dell'avversario che non sarebbero durate a lungo il nucleo più battagliero delle truppe di Cesare possedeva indubbiamente un'esperienza e un coraggio irresistibili sul campo di battaglia ma nelle marce nei lavori necessari a dirigere un accampamento nel combattere contro una muraglia nel vegliare la notte cedevano sotto il peso della vecchiaia erano troppo pesanti fisicamente per sopportare le fatiche della milizia e la debolezza dissipava ogni loro entusiasmo si sparse anche la voce che nell'accampamento di Cesare dilagava una malattia pestifera originata dall'alimentazione insolita a cui i soldati erano costretti quel che era peggio Cesare non era fornito di danaro come non disponeva di viveri sembrava proprio a tutti che entro breve tempo la sua armata si sarebbe sfasciata da sé per tutte queste ragioni Pompeo avrebbe preferito non combattere ma soltanto Catone lo sosteneva mosso dal desiderio di risparmiare la vita dei propri concittadini nella battaglia precedente quando aveva visto i caduti dal lato dei nemici un migliaio circa scappò via coprendosi il capo e piangendo tutti gli altri ufficiali deploravano invece che Pompeo evitasse la battaglia lo stuzzicavano chiamandolo Agamennone e re dei re perché non voleva deporre il potere assoluto di cui era investito e godeva di avere tanti condottieri che gli stavano intorno e andavano e venivano continuamente nella sua tenda Favonio il quale si piccava ad imitare la franchezza di parola propria di Catone strillava come uno sesso perché neppure quell'anno sarebbe stato possibile gustare i fichi di Tuscolo per colpa dell'ambizione di Pompeo che voleva comandare su tutti Afranio arrivato recentemente da Liberia dove aveva fatto una pessima prova quale generale ogni volta che i colleghi lo accusavano di avere tradito i soldati per denaro replicava e perché voi non attaccate il mercante che ha comprato le mie province tutte queste malignità spinsero Pompeo a cercare battaglia contro il suo desiderio inseguendo Cesare la prima parte della marcia fu penosa per quest'ultimo poiché non trovava nessuno che gli fornisse dei viveri tutti lo davano per spacciato dopo la recente sconfitta ma la cattura della città tessala di gonfi non solo gli diede molto di rifuscillare l'esercito ma lo liberò in modo strano dall'epidevinia che lo tormentava vi trovarono una quantità straordinaria di vino che i soldati si misero a bere senza misura ebbene dandosi ai bagordi e folleggiando per la strada come baccanti l'ubriachezza smaltì i cattivi umori e quel repentino mutamento nel regime di vita li fece guarire quando i due eserciti entrarono nella pianura di Farsalo e vi si accamparono Pompeo tornò alla sua prima idea tanto più che gli apparvero sinistri fantasmi e in sogno una visione gli sembrava di essere nel teatro applaudito dai romani invece coloro che gli erano intorno si sentivano grande fiducia in corpo e nelle loro speranze si credevano già in possesso della vittoria Domizio Spinter e Scipione si contendevano l'un l'altro il posto di sommo sacerdote che era allora ricoperto da Cesare molti ufficiali mandarono a Roma agenti ad affittare e accaparrare qualche casa che fosse adatta a un console e ad un pretore in carica tanto erano sicuri di esercitare presto appena finita la guerra quegli uffici più di tutti si dimenavano ed erano impazienti di combattere i cavalieri per il fatto di indossare armature fulgenti che spiccavano sulle altre di avere ben cavalli pasciuti cavalli ben pasciuti e di essere essi stessi dei bei giovani si ripromettevano di fare grandi cose bisogna aggiungere che erano molti 7000 contro i 1000 di Cesare il numero dei fanti era pure diverso si schierarono in 45.000 da una parte e in 22.000 dall'altra Cesare radunò i suoi soldati e parlò loro li avvertì che due legioni agli ordini di Corfinio erano vicine 15 coorti si trovavano in deposito a Megara e ad Atene sotto il comando di Caleno chiese se preferissero attendere l'arrivo di questi rinforzi o affrontare da soli il rischio della battaglia i soldati lo pregarono a gran voce di non aspettare oltre ma di inventare piuttosto qualche stratagemma grazie al quale potessero scontrarsi al più presto col nemico e mentre effettuava la purificazione delle truppe appena immolò la prima vittima l'indovino dichiarò senz'altro che entro tre giorni sarebbe avvenuta una battaglia decisiva per le sorti della guerra Cesare domandò all'indovino se mai riscontrasse nelle vittime anche qualche segno favorevole riguardo all'esito della battaglia stessa e il sacerdote rispose tu stesso potresti darti una risposta meglio di me gli dèi preannunciano un grande cambiamento la situazione attuale si muterà in quella opposta se perciò tu reputi di essere allo stato presente delle cose in buone condizioni devi aspettarti di cadere in condizione peggiore se invece reputi di essere male in arnese ti troverai presto in miglior stato durante la notte che precedete la battaglia Cesare stava ispezionando le sentinelle quando vide nel cielo era circa la mezzanotte una fiaccola di fuoco che dopo essere passata sopra il suo accampamento divenne fulgida e fiammeggiante quindi andò a cadere così gli parve in quello di Pompeo durante l'ultimo turno di guardia quello dell'alba si avvertirono anche rumori concitati provenire dall'accampamento nemico tuttavia Cesare non prevedeva di dover combattere quel giorno stesso tant'è vero che levò il campo e si incamminò verso Scotussa le tende erano appena disfatte quando arrivarono le vedete a briglia scioglia e annunciarono che i nemici stavano scendendo in campo per disputare la battaglia Cesare ne fu lietissimo invocò gli dei poi dispose l'esercito in ordine di combattimento suddividendolo in tre schiere mise a capo del centro Calvino Domizio affidò l'ala sinistra ad Antonio e assunse egli stesso il comando della destra dove desiderava combattere insieme alla decima legione ma quando vide i cavalieri nemici schierati proprio davanti a quel settore del fronte ebbe paura delle splendide armature e del loro numero ingente diete quindi ordine che dall'altra estremità del fronte sei coorti lo raggiungessero compiendo un giro per non farsi scorgere dal nemico e andassero a porsi dietro l'ala destra impartì poi istruzioni precise su ciò che avrebbero dovuto fare allorquando i cavalieri nemici sarebbero venuti all'attacco anche Pompeo si pose all'una delle ali del proprio fronte la sinistra affidò a Domizio il centro la sinistra affidò a Domizio il centro suocero Scipione la cavalleria fu ammassata tutta sulla sinistra con l'intento di accerchiare la destra di Cesare e di provocare una rotta gagliarda proprio là dove si trovava il comandante in capo dei nemici Pompeo pensava che nessuna formazione di opliti per profonda che fosse avrebbe potuto resistere alla carica di un numero così grande di cavalli era certo l'opposto che tutto il fronte nemico sarebbe rimasto stritolato e spezzato sotto l'urto dei suoi cavalieri quando ormai le due parti stavano per dare il segnale dell'assalto Pompeo impartì ai propri opliti l'ordine di rimanere fermi con le aste puntate verso i nemici e di sostenere l'attacco senza muoversi a ranghi compatti finché fossero giunti a tiro dei giavellotti Cesare disse che Pompeo sbagliò anche nell'impartire quest'ordine non considerò che lo scontro dei soldati quale avviene all'inizio della battaglia correndo e lanciandosi in avanti impetuosamente accresce la forza dei loro colpi e insieme accende i loro animi su cui quella corsa collettiva agisce come un soffio infiammatore mentre Cesare si accinge a muovere le proprie truppe e già avanza per dare inizio alla battaglia vede il primo dei suoi capi reparto un uomo a lui fedele ed esperto in fatto di guerre che sta incoraggiando i suoi uomini e li sfida a disputare con lui una gara di valore lo chiamò per nome e gli disse quali speranze abbiamo Gaglio Crassinio dobbiamo avere fiducia di poter vincere oggi Crassinio tese la destra e rispose a voce alta riporteremo una splendida vittoria o Cesare ed oggi mi elogierai vivo o morto ciò detto si getta di corsa sui nemici per primo trascinandosi dietro i centoventi uomini che comanda fatti a pezzi i soldati della prima linea penetra ben addentro fra i nemici aprendosi il varco a prezzo di grande strage finché viene abbattuto con un colpo di spada tanto violento da attraversargli la bocca la punta esce fuori dalla nuca mentre al centro le fanterie erano così venute al cozzo e combattevano l'una contro l'altra sulla destra la cavalleria di Pompeo mosse alla carica alteramente e allargò gli squadroni per accerchiare l'ala destra di Cesare ma prima che potesse avventarsi sui nemici sbucarono di corse i reparti che Cesare aveva spostato dalla sinistra contrariamente al solito essi non scagliarono i giavellotti e neppure colpirono da vicino le cosce e le gambe dei nemici puntarono invece le armi verso i loro occhi e li ferirono in viso istruzioni in questo senso erano state impartite da Cesare egli sperava che quegli uomini cui mancava una vera familiarità con la guerra e che non erano mai stati feriti al culmine allora della giovinezza e orgogliosi della propria beltà avrebbero temuto più di qualsiasi altra cosa una ferita in viso e non avrebbero resistito poiché alla punta alla paura del pericolo presente si sarebbe aggiunta in loro quella di rimanere deturpati per sempre così avvenne essi non sostenero la vista dei giavellotti diretti verso l'alto e le punte che brillavano davanti ai loro occhi tolsero loro ogni coraggio si girarono e coprirono il volto con le mani per risparmiarlo così si scompigliarono da soli e alla fine si lanciarono in una fuga che più vergognosa non poteva essere tutta la situazione fu compromessa le truppe che gli avevano vinti aggirarono la fanteria piombarono alle sue spalle e la fecero a pezzi Pompeo vide dal lato opposto del fronte i propri cavalieri sbandati e in fuga e non fu più lui non si ricordò di essere Pompeo il grande pareva un uomo piuttosto cui Dio avesse rubato la mente uscì dal campo di battaglia e si ritirò sotto la sua tenda senza pronunciare una parola là seduto aspettò a compiersi del destino finché non avvenne una rotta completa nelle sue file i nemici investirono la palizzata e impegnarono ormai le truppe poste a guardia del campo allora come fosse tornato in sé dicono che pronunciò questa sola frase come persino negli annoggiamenti poi si tolse l'uniforme da combattimento e da generale indossò in sua vece un vestito adatto a un fuggiasco ed uscì dal campo quali casi gli toccarono poi come si sia consegnato agli egizi e ne sia stato ucciso tutto ciò esporremmo nella sua vita Cesare quando entrò nell'accampamento di Pompeo e vide finalmente i cadaveri dei nemici che giacevano al suolo e quelli che tuttora cadevano disse con un sospiro lo vollero loro mi hanno costretto a farlo poiché se io Gaglio Cesare colui che concluse felicemente le più grandi guerre mai combattute dall'uomo avessi congedato le mie armate essi mi avrebbero processato e condannato Poglione Asinio dice che Cesare sul momento pronunciò queste parole in romano poi le scrisse in ellenico lo stesso storico dice che la maggior parte dei morti furono schiavi uccisi durante la conquista dell'accampamento di soldati non ne caddero più di 6.000 Cesare incorporò nelle proprie formazioni la maggior parte dei nemici che furono presi vivi e concesse l'immunità a molti personaggi illustri che avevano militato nelle file di Pompeo per lui si dice anzi che Cesare tra essi era anche brutto quello stesso che più tardi lo assassinò per lui si dice anzi che Cesare fu in pena poiché in un primo momento non si riusciva a trovarlo appena gli si presentò sano e salvo ne fu straordinariamente lieto molti segni presagirono un po' dappertutto l'esito della battaglia nessuno però fu così chiaro come quello che si verificò nella città dei tralli e di cui si ha memoria nel santuario della vittoria di quella città si trova una statua di Cesare si trova una statua di Cesare la terra all'intorno oltre ad essere solida per natura sua era stata anche pavimentata con lastre di pietra dura ciò nonostante dicono una palma spuntò vicinissima alla base di una statua della statua a Padova poi un indovino stimato da tutti Gaglio Cornelio che anche lo storico Livio suo concittadino conosceva quel giorno era seduto casualmente a guardare il volo degli uccelli e anzitutto a detta di Livio riconobbe il momento in cui avvenne la battaglia dicendo ai circostanti l'evento si avvera in questo istante i soldati di Cesare e di Pompeo si stanno scontrando poi si volse di nuovo a contemplare il cielo e dopo aver osservato i presaggi si alzò in piedi e gridò che sembravano invasato la vittoria è tua o Cesare gli astanti rimasero esterrefatti egli si tolse la corona dal capo e fece il giuramento di non rimettersela sino a che i fatti non comprovassero l'infallibilità della sua arte Livio almeno assicura che così avvenne Cesare concesse la libertà a Itessa l'insegno di riconoscenza per la vittoria che aveva conseguito nel loro paese Indi si pose all'inseguimento di Pompeo approdato in Asia rese la libertà anche ai Cnidi per fare cosa grada a Teopompo lo scrittore che raccolse le antiche favole e condonò agli abitanti dell'Asia un terzo dei tributi che dovevano versare a Roma giunse ad Alessandria poco dopo che Pompeo era stato ucciso e quando Teodoto gliene presentò la testa ritrasse lo sguardo inorridito nel ricevere poi in consegna l'annello di Pompeo si mise a piangere aiutò e trasse dalla sua parte con vari benefici quanti fra i compagni e gli intimi del defunto erano stati presi dal re mentre vagavano per il paese ai propri amici Roma scriveva il più grande dolce frutto della vittoria è questo che posso salvare alcuni dei miei concittadini da cui sono stato sempre avversato della guerra che combatte in Egitto alcuni storici dicono che non era necessaria anzi nocque alla sua fama e lo mise in gravi pericoli ma lo fece per amore di Cleopatra altri ne attribuiscono invece la colpa ai ministri del re soprattutto a Potino questo potentissimo eunuco prima fece uccidere Pompeo poi cacciò Cleopatra e infine complottò nascostamente ai danni di Cesare Cesare si insospettì e da allora dicono cominciò a passare tutte le notti stando a tavola e bevendo per tutelare meglio la propria vita ma anche apertamente Potino andava dicendo e facendo molte cose con cui mirava a suscitare invidia contro Cesare e ad offenderlo avrebbe provocato la reazione di quest'ultimo fece distribuire ai soldati grano pessimo e molto vecchio alle loro proteste rispondeva invitandoli ad avere pazienza e ad accontentarsi visto che mangiavano a dufo in tavola fece porre servizi di legno e di terracotta dicendo che quelli d'oro e d'argento erano stati incamerati tutti da Cesare per pagarsi un debito che a suo tempo il padre del re attuale aveva contratto verso di lui e che ammontava esattamente a 17 milioni e 500 mila dracne di essi di essi Cesare ne condonò i figli una parte ma dieci milioni li pretese in quella circostanza per dar da mangiare ai propri soldati alla sua richiesta Potino replicò esortandolo ad andarsene e ad attendere per intanto ai grandi affari che doveva sbricare altrove più tardi avrebbe ricevuto il suo denaro con tanti ringraziamenti da parte del re Cesare rispose che non aveva affatto bisogno di consiglieri che gli dicessero cosa doveva fare e mandò a chiamare segretamente Cleopatra dal continente Cleopatra prese seco uno solo dei suoi amici a pollo d'oro siciliano montò su un piccolo brigantino e giunse davanti ai palazzi reali che annottava siccome non aveva altro mezzo per entrare senza essere vista si sdraiò lunga e distesa in uno di quei sacchi di cuoio dove si avvolgono le coperte a pollo d'oro lega poi il sacco con una cinchia ed entra per le porte legando a Cesare e Cleopatra già lo stratagemma ideato da Cleopatra per arrivare fino a lui e che la rivelava come una donna impavida si dice che conquistò il romano l'incontro che ebbe poi con lei e il fascino che rivelò finirono di soggiocarlo e rappacificatela col fratello propose che regnassero insieme mentre tutti stavano festeggiando appunto l'avvenuta riconciliazione con un banchetto uno schiavo di Cesare e più precisamente il suo barbiere che per essere l'uomo più vile del mondo non lasciava mai di frugare in ogni posto e stava sempre con le orecchie tese ficcando il naso dappertutto scoprì che il generale Achilla e Leonuco Potino stavano complottando per attentare alla vita di Cesare Cesare appena ne fu informato dispose un servizio di guardia intorno alla sala dove si svolgeva il banchetto e fece uccidere Potino Achilla riuscì invece a fuggire nell'accampamento e scatenò una guerra che vi decede Cesare accerchiato da ogni lato e fu per lui pericoloso e difficile con pochissimi uomini doveva difendersi dagli assalti di una città di un'armata grandissime anzitutto corse il pericolo di avere i rifornimenti d'acqua tagliati poiché i nemici ostruirono i canali che la portavano fino al palazzo poi tentarono di circondare la flotta e di portargli la via e fu costretto a sventare quest'altro pericolo appiccando il fuoco alle navi ma dall'arsenale dove si trovavano le navi l'incendio si propagò anche alla grande biblioteca di Alessandria e la distrusse completamente infine nel corso di una battaglia che si combatte a faro per soccorrere i suoi uomini impegnati nella lotta Cesare scese dal molo su un brigantino gli egizi vennero a salirlo da ogni parte con le loro barche egli si salvò per un soffio e astento gettandosi a nuoto nel mare si dice che in quel momento teneva in mano un fascio di carte importanti e non le abbandonò benché fosse bersagliato da ogni parte e costretto a immergersi nell'acqua teneva sempre le carte sopra il pelo del mare e nuotò fino a riva con l'altra mano poiché il brigantino era andato subito a fondo il re passò infine dalla parte dei suoi avversari Cesare marciò contro di lui ingaggiò battaglia e lo vinse molti furono i morti il re stesso scomparve nella mischia lasciata Cleopatra sul trono dell'Egitto poco dopo essa diede un figlio gli diede un figlio cui gli Alessandrei posero nome Cesarione partì alla volta della Siria dalla Siria entrò in Asia dove apprese che Domizio era stato sconfitto da Farnace il figlio di Mitrade ed era fuggito dal ponto con pochi compagni Farnace traendo partito dalla vittoria con un'ingordigia insaziabile si era poi impadronito della Bitinia e della Cappadocia ed ora mirava sottomettersi la cosiddetta piccola Armenia incitando la rivolta a tutti i re ed i principi della regione mosse quindi immediatamente contro di lui al comando di tre legioni ed ingaggiò una grossa battaglia nei dintorni della città di Zela lo espulse dal ponto da cui uscì a precipizio e ne annientò letteralmente l'esercito per far comprendere ad uno dei suoi amici che erano a Roma a Mazio quanto quella campagna militare fosse stata subitanea e rapida gliela annunciò con tre parole venni vidi vinsi queste tre parole terminando tutte nella lingua romana con lo stesso suono contengono nella loro brevità una forza espressiva quale non si può credere venni vidi vinsi conclusa anche questa campagna Cesare ripassò il mare in direzione dell'Italia e tornò a Roma mentre volgeva ormai al termine dell'anno per il quale era stato eletto dittatore la seconda volta sebbene tale carica non fosse mai stata annuale in passato per l'anno successivo fu nominato console la gente però lo biasimava per il modo come aveva punito alcuni dei suoi soldati rei di ammutinamento e dell'assassinio di due ex pretori Cosconio e Galba si limitò a chiamarli cittadini anziché soldati distribuì a ciascuno mille dracme e suddivise fra loro una grande estensione di terra in Sicilia suscitarono calugne contro di lui anche la follia di Dolabella l'avidità di Amanzio le sborgne di Antonio gli intrighi con cui Corfinio si impadronì della casa di Pompeo per poi ricostruirla dicendo che non era adatta per sé tutti questi soprusi spiacevano i romani Cesare lo sapeva e se ne angustiava ma data la particolare situazione politica era costretto a servirsi di simili collaboratori Catone e Scipione dopo la battaglia di Farsalo erano fuggiti in Libia là con l'appoggio del re Iuba riuscirono a mettere insieme forze considerevoli Cesare risolse perciò perciò di compiere una spedizione militare contro di essi passò in Sicilia circa il sostizio d'inverno per togliere senz'altro i suoi capitani ogni illusione che si sarebbe aspettata la buona stagione piantò la propria tenda sulla battigia e al primo soffio di vento si imbarcò salpò con 3.000 fanti e pochi cavalieri li sbarcò e a loro insaputa si imbarcò di nuovo per tornare indietro preoccupato dalla sorta del grosso dell'esercito l'incontrò che era ormai in mezzo al mare e condusse tutti i suoi uomini sani e salvi nell'accampamento lì apprese che i suoi avversari traevano motivo di fiducia dall'esistenza di un oracolo secondo il quale gli scipioni in Africa erano destinati a vincere sempre allora egli o per scherzo o volendo dileggiare scipione che era il comandante in capo dei nemici o seriamente per appropriarsi della predizione contenuta nell'oracono in tutte le battaglie che combatté durante questa campagna mise sempre alla testa del proprio esercito quale condottiero un certo scipione salustione che militava nelle sue file personaggio per il resto trascurabile e di cui nessuno faceva conto però apparteneva al ramo degli scipioni che discendeva dall'africano Cesare fu costretto ad ingaggiare guerre o battaglie col nemico tutte le volte che poté poiché scarseggiava sia di grano per gli uomini sia di foraggio per le bestie da Soma doveva sostenere persino i cavalli mediante alghe marine toglievano ad esse la salzedine lavandolo in acqua dolce e poi per renderle in qualche modo appetitose vi mescolavano un poco di gremigna tutto il paese era infatti controllato dai numidi che comparivano dovunque numerosi e all'improvviso un giorno i cavalieri di Cesare erano a riposo e stavano osservando un africano che mostrava loro come si potesse ballare e suonare insieme il flauto da sé uno spettacolo degno di essere visto seduti in terra avevano affidato i cavalli degli inservienti e se la godevano quando ad un tratto i nemici li circondano e li assalgono ne uccidono una parte sul posto incalzano gli altri a perdifiato verso l'accampamento vi entrano con loro e se non fosse stato Cesare insieme a Pollione e a Sinio che accorsero ad aiutarli dalla palizzata li arrestarono mentre fuggivano la guerra era bella finita in un'altra battaglia i nemici prevalsero durante la mischia e si racconta che Cesare afferrò per il collo l'alfiere che portava l'aquila lo costrinse a voltarsi indietro e gli disse da quella parte stanno i nemici il vantaggio che aveva ottenuto in queste operazioni incoraggiarono Scipione a decidere le sorti della guerra mediante una battaglia campale lasciò Afranio e Yuba accampati separatamente ma a breve distanza l'uno dall'altro e da parte sua si mise a costruire fortificazioni per il proprio accampamento al di là di una palude che si trovava nei dintorni della città di Tapso nei suoi piani quella doveva essere una base di lancio per la battaglia e un rifugio per tutti in caso di ritirata Cesare mentre gli lavorava quest'opera attraversò con una velocità sbalorditiva località selvagge selvose da cui nessuno avrebbe saputo dire dove e come si sarebbe usciti e accerchiò parte delle forze nemiche assalì l'altra di fronte sbaragliate queste truppe ed approfittando del momento favorevole dello slancio della buona sorte è mossa all'attacco dell'accampamento di Afranio e lo prese al primo assalto altrettanto fece per quello dei Numidi e lo mise a sacco mentre Iuba fuggiva così in una breve porzione di una sola giornata divenne padrone di tre accampamenti e ammazzò 50.000 soldati nemici senza perderne nemmeno 50 dei suoi alcuni storici riferiscono così le varie fasi di quella battaglia altri dicono che Cesare non prese parte all'azione perché mentre stava schierando l'esercito e disponeva l'ordinanza ebbe un attacco del suo solito male l'epilessia e appena ne avvertì i sintomi prima che gli si turbasse del tutto la coscienza già scossa e cadesse completamente in preda al terribile morbo si fece trasportare su una torre vicina dove rimase assopito per tutta la durata dello scontro degli ex consoli ed ex pretori che fuggirono dalla battaglia ce ne furono alcuni che si uccisero da soli all'atto della cattura molti poi si lasciarono catturare e furono messi a morte da Cesare ma Cesare agognava soprattutto di prendere vivo Catone si affrettò perciò a raggiungere Utica dove Catone era rimasto a guardia della città quindi non aveva preso parte alla battaglia venne però informato ben presto che il valentuomo si era ammazzato con le proprie mani la notizia lo lasciò evidentemente contrariato ma non è chiaro per quale motivo allora egli disse questa frase oh Catone sono geloso della tua morte come tu lo fosti della salvezza che ti avrei accordato più tardi invece quando Catone era morto da un pezzo scrisse un trattato contro di lui che non sembra rivelare una disposizione di spirito mite e conciliante nei suoi riguardi come si può pensare infatti che Cesare avrebbe risparmiato Catone se l'avesse preso in vita quando versa sul suo cadavere un fiotto di bile così violento d'altra parte chi considera la bontà che Cesare usò verso Cicerone Bruto e decine di migliaia di altri uomini che pure l'avevano combattuto conclude che il trattato fu composto non per un sentimento di astio ma per un chiaro intento politico e più precisamente per il seguente motivo Cicerone aveva scritto un elogio di Catone e gli aveva dato il titolo di Catone l'opera ebbe successo presso una larga cerchia di lettori come si può credere visto che a comporla era stato il più abile degli oratori romani e l'argomento era il più nobile che ci fosse Cesare se ne angustiò stimò che le lodi del morto tessute da quella persona fossero un atto d'accusa contro se stesso perciò raccolse in uno scritto molte imputazioni che si potevano forse anche muovere a Catone e intitolò il volume anti-Catone di tutti e due questi trattati esistono schiere di sostenitori gli uni devoti di Cesare gli altri di Catone rientrato a Roma dalla Libia sua prima cura fu quella di magnificare davanti al popolo la vittoria con cui disse aveva conquistato alla città una regione tanto estesa da fornire all'erario 200.000 medimmi attici di grano e 3 milioni di libri d'olio ogni anno quindi celebrò i trionfi uno per la vittoria in Egitto un altro per la vittoria nel ponto e un terzo per la vittoria riportata in Africa non su Scipione ma si precisò sul re Yuba nel corteo trionfale fu presentato tra gli altri prigionieri il figlio di Yuba che era un fanciulletto in tenerissima età sennò che per lui la prigionia fu veramente una fortuna invece di rimanere un'umida incivile quel fanciulletto divenne uno dei più dotti storici in lingua ellenica a conclusione dei trionfi Cesare fece splendidi doni ai soldati e si cattivò le simpatie popolari offrendo banchetti e spettacoli offrì un banchetto a tutti gli abitanti di Roma simultaneamente che trovarono posto a tavola su 22.000 divani ed organizzò spettacoli di gladiatori e finte battaglie navali in onore di sua figlia Giulia che era morta da tempo conclusi anche gli spettacoli fece fare il censimento dei cittadini in luogo di 320.000 quanti erano iscritti precedentemente nelle liste ora gli ammessi furono soltanto 150.000 da ciò si può dedurre la gravità del danno che le guerre civili cagionarono e quale vuoto aprirono nella massa del popolo romano senza contare le sventure che colpirono il resto dell'Italia e delle province compiuto il censimento eletto console per la quarta volta Cesare partì alla testa di un esercito per l'Iberia doveva combattere i figli di Pompeo per quanto fossero giovani ancora essi avevano raccolto un esercito di proporzioni sorprendenti e dimostravano una audacia adeguata al comando di forze militari tanto grandi riuscirono infatti a mettere Cesare in una situazione estremamente pericolosa una grossa battaglia si svolse presso la città di Munda i soldati di Cesare furono sopraffatti e da stento riuscivano ormai a tenere testa agli assalti dei nemici come se ne avvide Cesare passò correndo tra le fila dei combattenti gridava loro se non avevano nessuna vergogna a prenderlo di peso come stavano facendo e a metterlo nelle mani di questi due ragazzini a stento e a costo di molti sforzi riuscire a spingere i nemici a stento ne uccise 30.000 dei suoi ne perse mille ma erano i migliori che avesse mentre dopo la battaglia si allontanava dal campo confessò agli amici che in molte altre occasioni prima di allora aveva combattuto per ottenere una vittoria ma quella lì era stata la prima volta in cui aveva combattuto per salvare la vita la battaglia di Munda fu vinta da Cesare il giorno della festa di Dionisio il medesimo si dice in cui Pompeo era partito da Roma per dare inizio a quella guerra e quattro anni erano trascorsi da allora quanto ai figli di Pompeo il minore fuggì del maggiore Didio gli portò pochi giorni dopo la testa questa fu l'ultima delle campagne militari effettuate da Cesare e il trionfo che per essa celebrò di spiacco i romani più di qualsiasi altro atto da lui mai compiuto in quella guerra Cesare non aveva lottato contro capitani stranieri o re barbari aveva annientato i figli ed estinta la stirpe di colui che fu il personaggio più grande di Roma anche se poi la sorte non lo favorì non era bello quindi che prendesse partito delle sventure della sua patria per guidare una processione trionfale che si vantasse di avere compiuto tali azioni la cui sola giustificazione al cospetto degli dei come degli uomini era quella di essere state compiute per necessità tanto più che prima d'allora non aveva mai mandato neppure messaggi o lettere ufficiali per annunciare qualche vittoria ottenuta combattendo contro altri cittadini egli stesso ne aveva sempre rifiutato con vergogna la gloria ciò nonostante i romani si inchinarono davanti alla fortuna di Cesare e subirono il morso che impose loro il governo assoluto parve promettere un periodo di respiro dopo le sciagure portate dalle guerre civili fu eletto dittatore a vita ormai quella di Cesare una tirannide dichiarata poiché univa al potere sovrano della dittatura la prerogativa di non deporla mai le prime onoreficenze attribuite a Cesare furono proposte in senato da Cicerone erano comunque convenienti ad un uomo molti altri facendo a gara tra loro gli inaggiunsero in seguito di troppo grandi e così resero odiosa e fastidiosa anche ai cittadini più bonari la persona stessa di Cesare tanto erano inusitati la pompa e i poteri che quei decreti gli conferivano qualcuno pensa addirittura che i nemici di Cesare non meno dei suoi adulatori entrarono nel gioco intendevano procurare in questo modo il maggior numero possibile di pretesti all'opposizione che conducevano e far vedere come fossero ampiamente giustificati si attentavano alla vita del dittatore ma dopo la conclusione delle guerre civili per il resto del tempo che ancora visse Cesare si comportò in maniera irreprensibile e opinione generale che di tutti i decreti votati in sonore almeno quello per l'erezione del santuario della concordia quale segno di gratitudine per l'amitezza di cui diede prova fu giustificato Cesare Cesare erigendo erigendo le statue di Pompeo rafforzava le proprie gli amici erano anche d'avviso che gli convenisse avere una guardia del corpo e molti si offrirono di farne parte ma egli non la consentì dichiarò che avrebbe preferito morire una volta per sempre che rimanere continuamente in attesa della morte si circondò invece di quella che ritene la più bella e nel medesimo tempo la più sicura delle protezioni la simpatia e per cattivarsi l'animo del popolo offrì di nuovo banchetti e fece distribuzioni di grano per la truppa istituite le colonie di esse le più notevoli furono quelle di Cartagena e di Corinto così per una singolare coincidenza queste due città furono prima conquistate nel medesimo anno e poi nel medesimo anno ripopolate verso i nobili si comportò in questo modo ad alcuni promise di farli consoli e pretori in avvenire altri li consolava con altre cariche d'onori a tutti dava speranze poiché desiderava che i sudditi fossero soddisfatti del suo governo così quando morì il console Massimo nominò succedergli per l'unico giorno che rimaneva al termine dell'anno Caninio Rebili molte persone andarono ugualmente a stringere la mano al neoeletto e lo accompagnarono a casa come si usa in queste circostanze e Ciserone disse affrettiamoci prima che il console ci prevenga uscendo di carica ma Cesare era di natura sua un uomo operoso ed ambizioso e molti successi che aveva conseguito non lo spinsero a godere il frutto sudato di tante fatiche quanto piuttosto costituirono un'esca un incentivo a fare altrettanto in avvenire egli essi gli fecero concepire disegni di imprese ancora maggiori suscitarono in lui una brama di gloria nuova come se quella di cui godeva si fosse già logorata null'altro era questa passione se non gelosia che nutriva verso se stesso come verso un estraneo una sorta di rivalità che esisteva in lui tra ciò che aveva e ciò che avrebbe fatto preparava e si proponeva in particolare una spedizione militare contro i parti sottomessi costoro pensava di attraversare l'Ircania costeggiando il Marcaspio e il Caucaso di aggirare il punto e invadere la Scitia lì avrebbe percorso le regioni adiacenti alla Germania e la Germania stessa e sarebbe rientrato in Italia attraverso la Gallia chiudendo così in un cerchio i suoi domini di cui l'oceano avrebbe costituito tutto attorno al confine nel corso della spedizione si proponeva di far tagliare anche l'istimo di Corinto Agnieno era già incaricato dell'esecuzione dell'opera un altro progetto riguardava il Tevere che voleva imbrigliare subito dopo l'uscita dalla città ed incanalare in una fossa profonda che lo portasse a sfociare nel mare vicino a Terracina in tal modo avrebbe procurato ai mercanti una via di comunicazione sicura e facile per raggiungere Roma ma non basta voleva anche trasformare in fertile pianura le paludi che si stendono intorno a Pomentino e Sezia per dare lavoro a molte decine di migliaia di uomini e infine costruire emoli per proteggere dagli assalti del mare il tratto di costa più vicino a Roma nonché ripulire il lido di Ostia togliendo gli scosti nascosti sott'acqua che ne rendevano pericoloso l'approdo per poi costruirvi porti e banchine adeguate al traffico di navi che vi si svolge e tutte queste imprese erano già in preparazione l'ordinamento e la correzione del calendario invece non solo furono da Cesare studiati scientificamente con grande accuratezza ma furono anche attuati con notevolissimo vantaggio per chiunque essi eliminarono ogni discordanza nel compito del tempo anticamente i romani usavano i mesi lunari che non corrispondevano al corso annuale del sole così i sacrifici e le feste religiose vennero a poco a poco spostandosi fino a cadere in stagioni dell'anno opposte a quelle in cui erano state fissate originariamente ma anche all'epoca di Cesare la gente comune non aveva la minima cognizione del punto in cui si trovasse allora l'anno solare solo i sacerdoti conoscevano la durata esatta dell'anno e usavano giungere l'improvviso senza che nessuno ne fosse informato il cosiddetto mese intercalare che chiamavano mercedonio si vuole si vuole che fosse il re Numa a introdurre per primo il mese intercalare ma questo modesto espediente da lui scogitato non poté rimediare per molto tempo le divergenze esistenti fra il corso del sole e quello della luna come ho spiegato nella vita di quel re Cesare propose la questione ai filosofi e ai matematici migliori della sua età e giovandosi dei sistemi in uso mise insieme una riforma singolare e più precisa delle altre che corresse ogni divergenza i romani che se ne servono tuttora sembra che di tutti i popoli siano quelli che sbaglia di meno nel calcolare la differenza esistente tra l'anno solare e il lunare eppure persino un provvedimento così utile diede occasione a coloro che erano invidiosi e insofferenti della potenza di Cesare di farlo oggetto d'accuse l'oratore Cicerone ad esempio sentendo dire da un tale che l'indomani sorgeva la costellazione della lira pare gli abbia risposto sì per l'editto di Cesare come a dire che i romani erano costretti ad accettare per forza anche queste cose ma fu la sua smania di diventare re quella che suscitò contro di lui l'odio più manifesto e letale essa fu la causa prima del male che gli volse la massa dei cittadini e il pretesto più specioso per chi già da tempo lo covava nell'intimo eppure coloro che brigavano per fargli attribuire la maestà regale avevano sparso da tempo in mezzo al popolo una voce secondo cui dai libri sibillini appariva chiaramente un fatto che i romani potevano conquistare la persia soltanto combattendo agli ordini di un re in nessun altro modo avrebbero potuto prenderla e un giorno che Cesare scendeva da Alba verso Roma osarono salutarlo col titolo di re e il popolo ne fu turbato Cesare stesso mostrando il suo sdegno disse che non si chiamava re ma Cesare tutti tacquero allora ed egli passò oltre corrucciato e furente in viso in senato gli furono poi votati onori eccezionali i consoli e i pretori seguiti da tutta l'assemblea gli si avvicinarono mentre era seduto sui rostri per annunciargli quanto avevano deciso ma egli non si alzò in piedi parlando a loro come se fossero privati i cittadini rispose che i suoi onori avevano più bisogno di essere concentrati che dilatati e fu una frase che spiacque non solo al senato ma anche al popolo come se tutta la città fosse stata offesa nel suo consiglio quanti poterono si allontanarono subito di là umiliati e depressi Cesare stesso appena si accorse di aver detto una cosa inopportuna prese la via di casa e scostando la veste dalla gola gridò rivolto agli amici di essere pronto a porgere il collo a chi volesse sgozzarlo più tardi attribui la colpa dell'accaduto alla propria malattia a coloro che ne sono soggetti disse l'epilessia turba l'intendimento quando parlano con la folla stanno in piedi un tremito li prende all'improvviso le vertigini li scolgono li scuotono li sconvolgono li scuotono sì che non sono più responsabili di ciò che fanno ma le cose non erano andate così in realtà egli avrebbe voluto alzarsi in piedi davanti al senato ne fu trattenuto dicono da uno dei suoi amici o meglio dei suoi adulatori Cornelio Balbo che lo ammonì non ti ricordi di essere Cesare non ti stimi degno di essere riverito come uomo superiore a questi motivi di contrasto fra lui e i cittadini si aggiunse l'offesa che inflisse ai tribuni del popolo era la festa dei lupercali che secondo molti scrittori un tempo fu la solennità dei pastori ed assomiglia effettivamente un poco alla celebrazione dei licei in Arcadia in occasione della festa molti giovinetti appartenenti alla nobiltà e alcuni magistrati scorrazzano nudi per la città battendo per scherzo con delle corregge bellose quanti trovano sul loro cammino anche molte signore di alto rango vanno loro incontro a bella posta e offrono le mani ai colpi delle sferze come fanno i bambini a scuola convinte che l'esserne toccate giovi a quante sono gravide per facilitarne il parto e a quante sono sterili per concepire Cesare assisteva appunto a queste cerimonie seduto su uno scranno d'oro posto sopra i rostri e intenuta da trionfo tra coloro che partecipavano alla corsa sacra uno era Antonio nella sua qualità di console come entrò nel foro la calca della gente si fendette per lasciarlo passare ed egli andò a porgere a Cesare un diadema che aveva intrecciato tutto in un giro in un ramo dall'oro dall'applauso dalla folla si levò un applauso maffiacco e ad applaudire erano poche persone disposte in precedenza allo scopo però appena Cesare fece il gesto di respingere il diadema tutto il popolo si mise a battere le mani Antonio ripete il gesto e pochi ancora applaudirono Cesare non accettò anche questa volta la corona e tutti di nuovo si misero a battere le mani il tentativo era stato smascherato Cesare si alzò e diede ordine di portare la corona sul Campidoglio ma poco dopo si videro alcune delle sue statue con diademi reali avvolto intorno al capo due tribuni Flavio e Marcello si avvicinarono e li strapparono via poi individuarono coloro che per primi avevano salutato Cesare col titolo di re e li trascinarono in prigione il popolo li seguì durante tutte queste operazioni applaudendo ogni volta chiamavano quei due uomini bruti poiché Bruto fu colui che interruppe la successione del re a Roma e trasferì il potere sovrano dalla monarchia al consiglio e dal popolo Cesare si irritò per questo fatto tolse la carica Flavio e Marcello nell'atto di accusa che recitò contro di loro l'insolentì e il popolo con essi definendoli ripetutamente bruti e cimei ed ecco che la massa riversò le sue simpatie su Marco Bruto costui si credeva che per parte di padre discendesse dall'antico Bruto per parte di madre apparteneva a un'altra illustre casata romana quella dei servili mentre era genero e nipote di Catone ed egli di propria iniziativa mirava ad abbattere la monarchia di Cesare ma gli onori e favori che il dittatore gli conferiva spuntavano i suoi propositi Cesare lo salvò a Farsalo dopo la fuga di Pompeo e su sua richiesta fece grazia della vita a molti dei suoi compagni nutriva poi una fiducia cieca in lui tanto che gli aveva conferito l'apretura più onorifica di quell'anno e si apprestava a farlo console tre anni dopo preferendolo a Cassio che pure brigava per ottenere quella carica si narra che Cesare disse allora come le ragioni che aduceva Cassio erano più giuste ma non sarebbe passato ugualmente davanti a Bruto e quando alcuni accusarono Bruto la congiura era ormai in atto Cesare non prestò attenzione a ciò che gli riferirono si rivolse a chi caluniava il giovane e disse toccandosi il petto con la mano Bruto aspetterà la fine di questa pelle con ciò intendeva dire che Bruto per la sua virtù era degno di governare ma non si sarebbe dimostrato un ingrado né avrebbe commesso un delitto per governare coloro che sospiravano un cambiamento di regime e guardavano a Bruto come alla sola la prima persona capace di attuarlo non ardivano più discorrerne con lui apertamente durante la notte coprivano invece di scritti il tribunale e lo scranno su cui Bruto sedeva quando sbrigava i suoi affari in qualità di pretore per lo più erano scritte del seguente tenore dormi o Bruto oppure tu non sei Bruto ma quando Cassio si accorse che poco alla volta l'ambizione del giovane era esaltata da questi segni lo stimolò con maggiore insistenza di prima Cassio aveva certe sue ragioni particolari per odiare Cesare che io ho esposto nella vita di Bruto del resto Cesare stesso lo sospettava una volta disse ai suoi amici cosa credete che voglia Cassio a me quel suo pallore eccessivo non piace eccessivamente un'altra volta si dice che gli presentarono un'accusa calugnosa contro Antonio e Dolabella incolpandole di tramare una rivolta non ho affatto paura rispose Cesare delle persone grasse e con la chioma lunga come la loro bensì piuttosto di quelle pallide e sottili era un'allusione a Cassio e a Bruto ma il destino sembra che si possa più facilmente prevedere che evitare segni e visioni miracolose si dice siano apparse durante quei giorni luci che brillarono nel cielo fragori che durante la notte trascorsero un po' dappertutto uccelli solitari che vennero a posarsi nel foro probabilmente questi presaggi non meritavano di essere ricordati in occasione di una vicenda quale la morte di Cesare ma il filosofo Strabone dice che si videro intere folle di uomini correre in pre dal fuoco e che lo schiavo di un soldato gettò una lunga fiammata dalla mano tanto che gli astanti credettero che bruciasse e invece quando il fuoco si spense videro che non aveva riportato nessun danno Cesare stesso fece un sacrificio e non trovò il cuore della vittima prodigio terribile dice Strabone poiché in natura non esistono animali cui manchi il cuore un'altra storia che si può sentire raccontare da molta gente è questa un indovino gli aveva predetto qualche tempo prima di stare in guardia perché un grave pericolo lo minacciava nel giorno del mese di marzo che i romani chiamano le id le id vennero e Cesare mentre usciva di casa per recarsi in senato salutò l'indovino gli disse ridendo ebbene le id di marzo sono arrivate l'indovino gli rispose quietamente sì sono arrivate ma non sono ancora trascorse il giorno innanzi Cesare pranzava in casa di Marco Lepido mentre come era solito fare firmava alcune lettere stando sdraiato a tavola gli altri convitati si misero a discutere tra loro su quale fosse la morte preferibile prima che chiunque altro avesse avuto il tempo di esprimere il proprio parere Cesare gridò ad alta voce la morte non si attende poco più tardi era coricato come al solito insieme alla moglie quando a tutto un tratto le porte e le finestre della stanza si spalancarono da sole svegliato di soprassalto dal fracasso e dal lume della luna che entrava nella stanza Cesare vide che Calpurnia dormiva profondamente ma nel sonno si lasciava sfuggire frasi e gemiti inarticolati che non riusciva a comprendere sognava in realtà che il marito era stato assassinato ed essa piangeva reggendolo sulle braccia ma ci sono alcuni storici i quali negano che Calpurnia ebbe questa visione c'era invece come racconta Livio un pinnacolo posto sul tetto della casa di Cesare per volontà del senato che serviva da ornamento conferendo maestosità all'edificio e a Calpurnia sembrò di vedere durante il sonno che lo abattevano e di ciò essa si angustiava e piangeva come si fece giorno pregò Cesare di non uscire e di rinviare la seduta del senato se non attribuiva la minima importanza ai suoi sogni gli disse avrebbe potuto scrutare il futuro attraverso gli indovini soprattutto servendosi delle vittime dei sacrifici pare che Cesare ebbe anche lui qualche sospetto e timore prima ad allora non aveva mai notato in Calpurnia nessuna di quelle superstizioni cui vanno soggette comunemente le donne in quel momento invece la vedeva proprio angosciata per di più gli indovini dopo aver eseguito i sacrifici gli riferirono di aver ottenuto segni sfavorevoli risolse così di mandare Antonio in senato ad aggiornare la seduta in quella arrivò decimo brutto soprannominato Albino che godeva della fiducia di Cesare tanto che l'aveva scritto come suo secondo erete nel testamento e ciò nonostante aderiva alla congiura dell'altro brutto e di Cassio e gli temette che se Cesare rinviava ad un giorno diverso la seduta si sarebbe scoperta la trama e cominciò a deridere gli indovini e a rimproverare Cesare che avrebbe dato occasione al senato di accusarlo e caluniarlo quel rinvio sarebbe sembrato al consiglio un affronto fatto alla sua dignità poiché si era radunato dietro un suo ordine ed era ansioso di decretargli l'attribuzione del titolo di re per tutte le province dell'impero che si trovassero fuori dall'Italia inoltre gli avrebbe permesso di portare il diadema quando si fosse recato all'estero in terra come sul mare se invece ora seduta già iniziata un tale andava da loro andatevene e tornate un'altra volta quando a Calpurnia capiteranno dei sogni migliori cosa non avrebbero detto i suoi nemici e chi avrebbe dato più ascolta ai suoi amici allorché si affannavano a dimostrare che quella da lui imposta non era una schiavitù né una tirannide se comunque concluso il brutto Cesare era deciso ad evitare quel giorno malagurato avrebbe fatto meglio recarsi di persone in senato e pregare che si rinviasse la seduta così dicendo prese Cesare per mano e lo condusse fuori di casa ma si erano allontanati dalla porta a pochi passi quando uno schiavo tentò di avvicinarsi al dittatore non era uno dei suoi e non vi riuscì a causa della resta di gente che attornava Cesare si aprì allora un varco in direzione della sua casa e si pose nelle mani di Calpurnia scongiurandola di volerlo custodire finché Cesare fosse tornato poiché aveva da rivelare cose importanti anche Artemidoro un professore di eloquenza ellenica nativo di Cnido che a ragione della sua attività era entrato in confidenza con alcuni dei compagni di Bruto venendo così a conoscere gran parte di quanto tramato contro Cesare si fece avanti con in mano un piccolo rotolo di papiro dove aveva scritto tutto ciò che intendeva rivelargli ma vede che Cesare ogni rotolo che riceveva lo passava a uno dei segretari che aveva al suo fianco perciò gli si fece più vicino che potè e disse o Cesare questo leggilo tu solo e prontamente contiene notizie di straordinaria importanza per te Cesare lo prese e lo avrebbe letto se non fosse stato impedito dalla resta della gente che si faceva avanti più volte tentò ma alla fine entrò in Senato tenendolo stretto in mano e servando di tutti quel foglio solo altri scrittori dicono che il rotolo gli fu consegnato da una persona diversa e non da Artemidoro il quale non riuscì assolutamente ad avvicinarlo ma fu sempre respinto indietro lungo tutto il tragitto ma fin qui queste sono cose che possono anche avvenire per puro caso il luogo invece in cui si radunò il Senato quel giorno e che assistette poi alla lotta e all'assassinio di Cesare indicò chiaramente come l'impresa si svolse perché un demone vi guidò ed attrasse l'azione dei congiurati vi sorgeva infatti una statua di Pompeo ed era uno degli edifici che Pompeo aveva aggiunto per ornamento al teatro offrendolo come quello alla città e si racconta appunto che Cassio benché non fosse avverso alle dottrine di Epicuro prima di porre mano alla spada guardò la statua di Pompeo e gli mandò un'invocazione silenziosa si vede che il pericolo quando incombette su di lui suscitò nel suo animo un'emozione violenta ispirata gli da Dio che si sostituì ai ragionamenti che amava quando era tranquillo Antonio poi era un amico fidato di Cesare e robusto fisicamente Antonio poiché era un amico fidato di Cesare e robusto fisicamente fu trattenuto all'esterno da Bruto Albino che imbastì con lui a bella posta una lunga conversazione come Cesare fece il suo ingresso nell'aula il consiglio si alzò in piedi in segno di omaggio alcuni dei compagni di Bruto si risposero in cerchio dietro al suo scranno mentre altri gli andarono incontro fingendo di unirsi alla supplica che Tiglio Cimbro gli rivolgeva perché volesse richiamare un suo fratello dall'esilio così pregando tutti insieme lo seguirono fino al suo scranno una volta seduto Cesare respinse le loro suppliche e si adirò prima con l'uno e poi con l'altro quando vide che insistevano più di prima ma ad un certo punto Tiglio gli afferrò la toga con ambedue le mani e gliela fece scendere dal collo era il segnale che avevano concertato per passare all'azione il primo a colpirlo fu Casca che gli inferse un colpo di spada nella gola colpo debole e non mortale tuttavia giacché come si può comprendere all'inizio di un'impresa tanto audace era piuttosto turbato Cesare riuscì addirittura a girarsi verso di lui ad afferrargli il pugnale a tenerlo fermo quasi contemporaneamente gridarono entrambi ferito in lingua romana dannatissimo Casca che fai il feritore rivolgendosi a fratello inellenico fratello aiuto se tale fu l'inizio della rivolta quelli tra i senatori che nulla sapevano della congiura rimasero immobilizzati dalla sorpresa e dal terrore per quanto vedevano accadere davanti ai loro occhi non ardirono fuggire né soccorrerlo che dico non ebbero neanche la forza di gettare un grido gli altri invece quelli che avevano complottato per ucciderlo levarono le spade nude in mano e lo circondarono dovunque Cesare volgesse lo sguardo trovava un ferro diretto colpirlo al viso agli occhi inseguito qua e là come una fiera rimase impigliato in tutte quelle mani poiché ognuno voleva partecipare al sacrificio e gustarne il sangue anche Bruto stesso perciò gli vibrò un colpo all'inguine alcuni storici raccontano che Cesare si difese dagli altri traendo il suo corpo or qua o là per la sala e gridando a squarciagola ma quando vide Bruto con la spata sguainata in mano tirò giù la veste sulla faccia e si accasciò fosse un caso o fossero stati gli assassini a spingervelo intenzionalmente contro il piedistallo su cui era appoggiata la statua di Pompeo ed esso fu inondato di sangue sicché parve che Pompeo stesso guidasse la punizione del rivale disteso ai suoi piedi escosso dagli spasimi della morte per il gran numero difendenti che aveva ricevuto si dice che furono 23 le ferite ma anche molti degli assalitori si ferirono tra di loro poiché cercarono di mettere a segno tanti colpi su un corpo solo ammazzato il dittatore Bruto si fece in mezzo alla sala con l'intenzione di spiegare ciò che avevano fatto ma il senato non seppe trattenersi si gettò fuori dalle porte fuggendo attraverso la città per vase irrimediabilmente di turbamento e di paura il popolo e chi si rinchiudeva in casa chi abbandonava banchi e mercati e accorreva sul posto per vedere cos'era accaduto chi dopo aver visto tornava indietro Antonio e Lepido gli amici più intimi di Cesare si rifugiarono di soppiatto in casa di conoscenti mentre Bruto e altri congiurati ancora in preda alla fuoca dell'Eccidio uscirono tutti insieme dal senato mostrando le spade nude e si avviarono verso il Campidoglio non avevano l'aspetto direi che fuggono dal luogo del delitto ma erano raggianti in volto fiduciosi e arditi invitavano la moltitudine a godere della libertà accoglievano con entusiasmo nel loro file i cittadini migliori che incontravano per via altri si unirono e si mescolarono infatti tra i congiurati prendendo una parte della gloria anche per sé come se avessero partecipato all'azione ad esempio Gaio Ottavio e Lentulo Spintere che pagarono però più tardi il fio della loro vanità quando Antonio e il giovane Cesare li misero a morte né essi godettero della gloria per la quale morirono giacché nessuno credette alle loro parole e chi li punì vendicò in essi piuttosto l'intenzione che l'azione il giorno seguente brutto scese dal Campidoglio e tenne un discorso al popolo che lo ascoltò senza esprimere né avversione né apprezzamento per ciò che avevano fatto il lungo silenzio della folla diede a vedere tuttavia che nutriva pietà per Cesare e rispetto per Bruto il senato da parte sua cercò di attuare un'amnistia e una riconciliazione generale così votò onoranze divine per Cesare e decretò che non si toccasse neppure il più piccolo dei provvedimenti che aveva adottato quando era al governo d'altro canto assegnò a Bruto e a suoi compagni province ed onori adeguati sì che tutti pensavano che la situazione si fosse astestata e consolidata come meglio si poteva sperare ma allorché fu aperto il testamento di Cesare e si trovò che aveva lasciato a ciascun cittadino romano un dono considerevole in denaro e la folla vide il suo corpo che fu portato attraverso il foro tutto sfregiato dai colpi di spada non seppe più mantenere l'ordine e rimanere disciplinata i popolani raccolsero dalla piazza alcuni banchi transenne e tavoli li accatastarono intorno alla salma e poi vi appiccicarono il fuoco e la bruciarono seduta stante quindi presero dal rogo alcuni tizzoni accesi e accorsero con quelli alle case degli uccisori col proposito di bruciarle altri percorrevano la città in lungo e largo cercando di acciuffare qualcuno dei cospiratori per farlo a brani nessuno però cadde nelle loro mani perché stavano tutti barricati ben bene in casa loro viceversa ci fu uno dei compagni di Cesare nome Cin che dicono durante la notte precedente aveva avuto una strana visione gli sembrò di essere invitato a pranzo da Cesare ma egli ricusava e l'altro lo trascinava per mano sebbene non volesse seguirlo anzi resistesse con tutte le sue forze quando udì dunque che nel foro bruciavano il cadavere di Cesare e si alzò dal letto per andare a rendere onore al morto benché la visione gli ispirasse qualche sospetto e avesse la febbre come apparve sulla piazza un tale disse il suo nome a un vicino che gli aveva chiesto come si chiamava il vicino lo disse a un altro e in un baleno passò tra la folla la voce che egli era uno degli assassini di Cesare tra i congiurati ce n'era infatti uno che si chiamava Cinna come lui credendo che fosse appunto quello si scagliarono sul poveretto e lo fecero a brani nel pezzo nel mezzo della piazza questo fatto intimorì Bruto e Cassio più di tutto il resto non lasciarono passare i molti giorni ed uscirono dalla città quanto essi poi fecero soffrirono prima di morire tutto ciò è scritto nella vita di Bruto Cesare dunque muore a 56 anni di età dopo essere sopravvissuto a Pompeo 4 anni soli dal potere dal principato che aveva inseguito per tutta la vita attraverso tanti pericoli e che alla fine era riuscito ad afferrare non trasse quasi altro frutto se non un nome e una gloria che gli procurò l'invidia dei concittadini tuttavia il suo grande genio che lo assistette nel corso della vita non gli venne meno dopo la morte vendicando il suo assassino incalzando e pedinando in ogni angolo della terra e del mare coloro che lo uccisero finché non ne rimase vivo uno solo chiunque mise mano in qualsiasi modo a quell'azione o ebbe parte nella sua ideazione fu punito tra gli eventi che furono opera degli uomini il più stupefacente è toccato a Cassio che si uccise dopo la sconfitta di Filippi col medesimo spadino che usò per colpire Cesare tutti i prodigi invece mandati da Dio tra i prodigi invece mandati da Dio si annovera una grande cometa che apparve per sette notti consecutive dopo l'eccidio di Cesare ben visibile in cielo e quindi scomparve i raggi stessi del sole si oscurarono per tutto quell'anno il suo disco si alzò pallido e smorto al mattino ed emanò un calore fioco e tenue l'aria essendo debole che di solito la rare fa l'aria essendo debole il tepore che di solito la rare fa si mantenne caliginosa e pesante i frutti mutarono a mezzo e rimasero imperfetti avvizzendo tristemente per il freddo dell'atmosfera ma soprattutto il fantasma che comparve a Bruto rivelò agli uomini come l'eccidio di Cesare fosse stato sgradito agli dei ecco il fatto una notte mentre era in procinto di traghettare l'esercito da abido sulla sponda apposta Bruto riposava come al solito nella sua tenda non dormiva ma pensava preoccupato al futuro dicono del resto gli storici che di tutti i generali che si conoscono Bruto fu il più insonne e che stava sveglio più degli altri senza sforzo alcuno così quella notte gli apparve di udire un rumore vicino alla porta scrutando al lume ormai morente della lampada vide una apparizione spaventosa un uomo di grandezza innaturale e dall'espressione corrucciata sulle prime Bruto ne fu atterrito poi al vedere che l'altro non gli faceva né diceva nulla rimaneva in piedi silenzioso accanto al geciglio gli domandò chi fosse il fantasma gli rispose io sono il tuo cattivo genio o Bruto mi vedrai a Filippi e Bruto coraggiosamente disse va bene dopodiché l'apparizione divina subito scomparve a suo tempo Bruto si trovò schierato in campo davanti ad Antonio e al giovane Cesare e nella prima battaglia che combatterono ebbela meglio sbaragliando quella parte dei nemici che aveva di fronte e inseguendoli furiosamente fin dentro al campo di Cesare che mise a sacco ma la notte che precedette il giorno in cui avrebbe combattuto la seconda battaglia il fantasma gli apparve ancora e benché non dicesse nulla Bruto capì che la sua sorte era segnata e si gettò senza riguardi nel pericolo ma non cadde combattendo quando i suoi furono sconfitti si ritirò verso uno sperone di roccia scoscesa e la si uccise puntandosi la spada contro il petto nudo mentre un amico dicono l'aiutava a vibrare il colpo con forza grazie